Iri ha comprato il mio canale, dandomi 35 sub Io non conosco nessun giove Vabbè, ora lo do Via No, no Non mi dispiace Oh, le mimetiche sono belle C'è, la grafica è bella Il gioco è bello, però... Però Gameplay fa cagare Però Gameplay fa cagare Io non so mai che... Questa è un'app nuova, Piro, siamo morti È violita Come un'app nuova? L'abbiamo fatta, questo Vabbè, stiamo prendendo Alpha Io sto andando a caso, come sempre L'unico che prese è la Plague Alpha sicuro Dio, abbiamo un kill, let's go No, mi si è imbloccato nella porta, zio Stiamo prendendo, bravo Sto ricaricando Ciao Michelangelo, buongiorno Buongiorno, benvenuti Grazie per il like Perché? Intanto Però è fortissimo l'M4 Mamma mia, io gli ho dato un minuto Ciao, sei il benvenuto allora Stasera facciamo un po' di multi insieme Un po' di tiro E... Io voglio sentire le prime impressioni da Mountain Minchia Mi sto uscendo già da delle porte Minchia Minchia Che schiappone No, sta mappa raga Che ti dirano Cioè, vanno c'è già tre volte da dietro No, bisogna camparata in arriere Ti ricordi quella clip Sto ricaricendo Sto ricaricendo Gua, no raga Sono tutti Stiamo perdendo, bravo Sì, ma questo è il problema Sono veramente fermi qua sopra Questa non l'abbiamo fatta Pensavo l'avessimo fatta Dove è che non l'abbiamo fatta questa? Cioè, qui bisogna... Ogni angolo deve uscire mirato Saltando mirato Buttone a flashback Ma non l'abbiamo fatta No, non l'abbiamo fatta Non l'abbiamo fatta Non l'abbiamo fatta Ma non l'abbiamo fatta Vieni Pir, ci facciamo una partita da tennis Qui stiamo perdendo Alpha Però questo con l'LBG in mano Dai, pure questo è UB Stiamo prendendo Charlie Ma dov'è la Jack? Sui tetti? Ma che cazzo ne sei mostro scoprendo Il nemico prende Alpha Il nemico ha capturato due OBT Sarvi sicuro E va Niente, avevo iniziato bene Ora schiaffoni, ovviamente Stiamo perdendo Charlie Ecco, c'è da die Buongiorno raga, come state? Tutto bene? Ciao Dennis, grazie Belli miei per il like Come va? Come va? Io vi giuro che ho fatto una notte insonne Perché ero troppo in alto per sto cavolo di gioco Non ho dormito niente Mi sono addormentato alle 3 metri Mi sono segliato alle 6, raga E' stata una notte Non c'è male, ve lo giuro Grazie a tutti Un bacione, belle mie Hai già scaricato? Cotto Nooo Mi sembri di giocare con un fantasma Nooo Nella finestrella questa stava Sì 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 Davide Ma questo come ti ha? Come ha fatto a sciogliarti così che sei uscito? Ma non lo scordo Bravo, ho capito? Vabbè 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 Stiamo perdendo alpha Sto ricaricando 0.4 di KDS Sì Guarda, guarda questi che Se la 3 yardano con il dol Che mi sembra Cioè raga vi doi tipi Sì sì Sono ingolzati Sì sì Sono ingolzati Sono in uno scendio Ma che cosa? Ah chissà Ma adesso entrò anch'io Ti do ricogni Il nostro UAV è in sorbola Rbd no vabbè le mie armi non fanno tanto raga oddio voglio capire questa arma adesso ci sono una kick campi interrogatori hai visto Antonino ti piace però forse lo devo togliere perché c'è il copyright sai ho scoperto l'altro giorno adesso non ho scoperto che sia davvero così per cui forse lo devo togliere purtroppo come state? grazie Luke grazie Sam, Riccardo per il like grazie a tutti belli mia come state? posso dire che sono abbastanza spaisato prendiamo si esplosione aereo strategico stiamo prendendo Charlie vedi il piro come attiva le come attiva le street non ce la faccio non ce la metto nuova morto morto porto guarda Charlie qui guarda come attiva le o bu pur è bravo guarda porto ai respira guarda 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 controlliamo charlie oddio che culo fra ahahah esplosivo aereo lanciato controlliamo tutti gli obiettivi difendeteli il nemico cattura charlie obiettivo charlie compromesso riprendetelo eh 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 ah hai preso Anthony allora eh mamma mia che cazzo che hai preso UAV alleato in zona il nemico catturato il nostro UAV è in sorvolo due obiettivi catturati siamo sull'obiettivo charlie sto ricaricando ma sbaglio le vedo un po' più ferme le armi rispetto alla mia nooo si M4 sbarella un botto zio obiettivo alpha compromesso riprendetelo il nemico cattura bravo lanciamo le bombe eh ah ue l'ho mai visto quella l'ho mai lancato si è baccato l'ho mai lancato l'ho mai lancato si è baccato raga hai fatto stra bene Anthony da quando non andrà più il vecchio eh sai che non si sa molti piccono da oggi però secondo me dal 16 novembre che mi metteranno su arzon 2 dai prendiamo bravo stiamo perdendo charlie raga non mi ah c'hanno UAV nemico ci han chiuso abbiamo perso tutti gli obiettivi dobbiamo rimediare subito UAV alle armi perchè non va no wey ma dove sono usciti questi da dietro come cazzo hanno fatto a seguirmi da dietro che c'aveva pure l'UAV siamo sull'obiettivo bravo no basta basta bravo al sicuro no wey ma no no prendiamo charlie UAV altra prendiamo alfa attenzione bravo stiamo perdendo alfa abbiamo tutti gli obiettivi sorvegliati e benedetto 1-1 do una ricognizione UAV alleato online prendiamo bravo 2-2 il nemico cattura charlie la combinazione per la scivolata non è il cazzo raga occhio camari bombardamenti che a me si è bancato eh attacco con mortale alleato che davvero che sono stato tipo 30 secondi con il mano del computerino che merda che merda io sto dietro il Piro quindi ammazzarlo qui vai Piro vai 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 corri il pollo che non è giusto quello stavo cambiato la giocola l'avevo visto è un cappettoratico alfa e partire da dimenticare per Livis sono stato un minuto fermo un minuto fermo per colpa del computerino che dovevo lanciare il bombardamento simone Lorenzo grazie per il like buongiorno a tutti come state? tutto bene? benvenuti nel nuovo how you're in multiplayer bruh il Piro che ingrana mamma mia Piro? on fire io ho paura di mettere accessori sulle armi ho provato prima a fare un gran comparto personalizzato mio è uscito uno proprio di quelli enormi no bro c'è la base al massimo mettici i caricatori cos'è che ci hai messo l'M4? la Tempus Terence Pro aspetta la casa la Tempus quale? la Tenci Pro allora ok poi laser mv1 calcio strike impugnatura x10 e colpi 556 però li volevo cambiare porca misera non sono riuscito oh no forse ah niente si riesce a fare la classe stanno tutti a nerdare rega parte subito il game subito vero ma si zio dai non posso fare senza e così fece tra kill e 27 ci ho messo già la mia medica pure io deathmatch a squadre poi ho messo come arma secondaria io l'MP7 raga questo per livellare le tue armi eh boh cazzo che devo mettere come arma secondaria siamo in vantaggio noi ok il nemico è in vantaggio il nemico è in vantaggio questo c'ha fatto quello che non me l'ha neanche chiamato era davanti a noi poi ce l'ho zerato subito che fuori che fuori mica è salita una scalinata a caso il nemico è già postato in edge pesantissimo ok no way cambio caricatore e si è stupido come meccanica raga perché non serve a un cazzo vavvi intervistare i suoi l'inizio l'inizio aiutano un'implantazione fai altri Power cazzo del guinn infatti poi si è l'inizio le spazi richiede ricognizione aerea o bella dom è arrivato la salutato è stata regalata wow buongiorno comunque finalmente per almeno una settimana di parlare di non dirlo troppo forte sem perché potrebbe finir male dall'area non avevo recuperato la vita ora siamo in vantaggio c'è gente premata ferma devi giocare così anche te fra tenerti una posizione fino a dopo bene per esempio ok bravo bravo ovviamente dai ma fai schifo mamma mia mia siamo praticamente sciolto c'è nessuno di qui ah mi hanno flashato recupero rapidamente sono dietro di te no wait eccola vabbè no 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 via ciao daniele buongiorno a tutti riga Grazie per il like, Daniel. Attenzione. Alessio, un bacione belle mia. Come state? Io sono gasatissimo per sto gioco, io te lo giuro. Sono proprio bello poppato, bello in hype. Sì. Un botto. Ecco. Oh, lelè. Oh, quanta fatica a sta mappa. Ma ho fatto non usciterla, zio. Wow. Questo lui è il sugo. Oh, figa, ma il balli? Lui lo usa. Ma quanto fa il schifo. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare proprio. No, non si può fare proprio. No, non si può fare. Non si può fare. Eh, dai. Oh, ma io crepo sempre dai. No, no. Uavvi nemico in zona. Dopo bianco di abitati in un bar. Eh, sì. Oh, madonna. Manca me. Andiamo a questo, invitiamo al lupacchiotto. No, non mi mando a Whatsapp. Esplosivo aereo. Esplosivo aereo. Sino a voi. Missile cruise in avvicinamento. Stiamo perdendo terreno. Ma dai, cazzo. Il missile che doveva prenderlo. Stiamo perdendo. Stiamo perdendo. L'unico. Granata. Sì, che ti ha perdendo. Stiamo perdendo. Eh, vai. Il mio primo missile. Il nostro UAV è in sorbolo. Oh, va bene. Dai. Facco due. Che due schifosi. Oh, dai, vai. Sione compromessa. È finita. va bene dai grazie per il like buongiorno a tutti allora le prime impressioni come vi sembra raga sto game onesto o no che dite ciao vittorio buongiorno tato com'è grazie a tutti per il like rega gentilissimi ma ferma la partita ok vediamo se riusciamo a invitarlo oh ma dove si vedono gli amici amici con analogico destro premi poi rb ok ti invito l'upacchiotto ecco perchè mi ha tolto la canna sull'm4 ecco perchè non facevo più kill vediamo se entra allora bene entrando pure in discord mi si è chiusa l'applicazione raga porco 2 mi si è chiusa l'applicazione ti intendi quello di code si mi si è chiuso code mentre modificavo l'arma penso a te benvenuto nel club che palle dai luogo ti va di sentire il mio freestyle spara bro dai catch me un free catch me un me gusta me gusta me gusta mi gusta dai cazzo dobbiamo essere positivi a me piace bisogna star molto sul centering raga sulla posizione nel multiplayer perchè la vita è molto bassa quindi bisogna un attimo tenere la posizione giocare di squadra se ti passano i nemici poi con due colpi sei morto quindi fai fatica insomma farti due o tre persone capi quindi bisogna giocare molto di di kumpa tre bia grazie per like bello mio buongiorno vittorio grazie anche a te ovviamente alcuni li ringrazio nuovamente perchè non ricordo tutti le persone che ringrazio quindi nel dubbio ok se no no mi sposti si se bello buongiorno se no ma come cavolo come è crashato applicazione si messa di funzionare a me no vabbè per capire un bot ha detto che ora sono io il leader zi siamo solo io il lupo adesso anche io amico ah è vero c'è un problema nell'angolino ehi vici ma perché mi hanno messo nell'angolino sentite ma non ci stanno più le impostazioni devi usare l'M4 l'M4 un culo si ma non posso vedere di fps ma non ci sta l'impostazione per mettere si 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 è chiuso ancora dove si mette si è chiuso ancora allora devi andare su interfaccia si si e basta finito non mi ricordo più no zi non c'è cosa cosa interfaccia telemetria poi fai l'astra di più ora ma vaffangù mi hai invitato formaggino tv contatore fps formaggino tv latenza qual era aspetta contatore fps latenza e poi perdi da no cosa che mettevo io che non mi ricordo è il gpu la temperatura la via server adesso è crashat monta che te ne frega non devi toccar niente al menù niente c'è ciova ciova no 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 vitto mi dissocio no no non posso nominare il boss come osi ti dovrei bannare per codeste parole ma come allora io non mi trovo zia a giocarci senza com'era com'era che ho fatto della mirata qual era non fa niente non fa niente c'era un tasto per non mi ricordo qual era quello lì scemo che clettino che non c'è altro erano da mirino no devi fare devi fare scavalcamento no devi fare non era scavalcamento di sottopipo no scavalcamento no scemo che deve essere questo gioco no ciao frecci buongiorno ma dove dove ah su gioco posizionamento arma ah premi due volte mira ok grazie ma lo proviamo subito ma poi ho cambiato le robe dimmi tutto ci siamo tutti per favore che se tocco qualcosa qua nel menu mi crash ma perché non mi senti di gioco si disattiva voce mai grazie ha fatto ok siamo più o meno prondi e poi c'è una cosa ancora da cambiare che non mi ricordo più che volevo di ah la mira la mira avete cambiato la mira assistita che io ho lasciato predefinita e poi ho messo curva dinamica si auguri ho cambiato anche voi ok madonna che casino mo tutte le impostazioni ma l'hanno aggiunto ciao flavio ciao camilla buongiorno a tutti belli miei prima impressioni ci sta ci sta bisogna abituarsi alle nuove meccaniche flavio però promette bene dai mi piace molto vabbè che ho fatto qualche game eh da 20 minutini che sto giocando però mi gusta dai rega questo gioco secondo me piacerà a molte persone sapete molto più alla portata di tutti secondo me almeno il multi per come si vede in questo momento il multi sembra così buongiorno una curiosità per chi avesse comprato la versione fisica esiste un upgrade per la vault edition si ce l'ho anch'io che dovrebbe fare tipo un aggiornamento grazie a tutti per il like eh gentilissimi raga ok facciamo forse baggato no togli togli tutti i controdotti togli che distruggi eh togli cerca di distruggi però togli quelle più lente e poi soccorridore prigioniero eh togliere quelle lì postazione dominio queste cose qui a loro quartier generale postazione ci sono confermato dominio deathmatch perfetto la scomma no no ma da no foco 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 profilo online raga a me sta facendo buono buono me lo butta fuori magari si cresciato no dimmi di no cresciato cresciato a te non devi toccare niente fra il menu non devi toccare niente stavo vedendo l'operatore no non puoi ti cresce mamma mia che gioco di merda ragazzi giovan mi ha regalato 35 5 buona di ciao passo da tutti noi ciao facciamo sentire il nostro amore non ci credo raga dai casano casano che cicaria poi piro piro giovanile regalati altri 35 sono 120 non ci credo ragazzi vuole la nuke livio adesso ti faccio la nuke mi ha svegliato adesso ero ancora un po' addormentato adesso sono porca troia oh mannaggia chi è stato niente l'applicazione ha smesso di funzionare no ragazzi c'è qua non ma che è è un problema ma chi è questo che urla qua dentro di chiede è morto no no mi si è chiuso qualcuno riprovi a fare l'host abbandona con il party che state combinando ti invito io raggiungendo da me andiamo andiamo da pirobotte sta crashando tutto a tutti sì mamma tutti i nerdoni che si stanno collegando cioè formaggino tv formaggino tv ha fatto crashare formaggino tv formaggino ha fatto crashare speriamo bro muone a diventare un cantante rap famoso speriamo eh bro perlomeno i multi perché l'avendo comprato vangar nel movement non c'è su vangar perlomeno molto ridotto si piace mettere più basso rispetto a wasa no ma infatti cambiano tutte le dinamiche rega rispetto poi al batto royal cambia tutto però per ora spacca mi piace nemmeno mezz'ora di gioco che gioco di merda gg eh beh è così è così cami che ci vuoi fare è così code è sempre bellissimo ed è sempre un gioco di merda ci sono sempre due lati della medaglia raga oh non mi è arrivato l'invito tuo zì come join ok allora analogico destro lo premi di che casino gruppo e poi ah no mi ha invitato ora mi ha invitato dai accetta ok monto allo c'è pure toscolano rega invitiamo invitato 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 io non tocco più niente ok ho paura non so manco come cazzo si fa vedere il party sei dentro monto si ok oh ho paura che c'è devi sapere quando start ah no stiamo spettato scu ah dio perché se no crasha crasha sempre ok ok ho detto ho mandato il e niente lo devi eh gabriel adesso stiamo aspettando nostri altri amici streamer che siamo in tanti niente raga mi si è chiuso c'è giorgina con noi come ti sei chiuso a monte ne ho vedo nella squadra avversaria pensate fra che sta succedendo non va non va a me va solo a mista funzionano è crescita ma giusto stiamo tenendo la capsa ma te fai scansione ripara piero ripare il canzone non sento tosco spostato spostato e non lo sento zi dai ragazzi bella ciao bella ciao bella bella come stai bro bene bene voi niente siamo abbiamo fatto 4 partite fino a quando non entrava lupo che è crashato tutto quanto tutto è entrato lupo è entrato lupo è crashato tutti i giochi non si giocava più nessuno stavamo giocando in grazia di dio via adesso non funziona ma come ho messo ho fatto del porca troia è crashato tutto raga non cambia gioco no 1 a 1 1 a 1 zisto 1 a 1 non funziona fra il fatto della lo slide lo slide non funziona manco più con i due no no neanche con il fatto che miri due volte zi funziona più non fai niente bro l'ha nerfato quello è il bunny non puoi più fare fra mia non ci fa proprio più magari ci sono delle altre impostazioni che scopriranno ma per ora nada ma do vabbè raga però non riesco ciao c'è che rauto vittorio claudio che rosa per la francesca un bacione raga buongiorno buccia c'è buccia c'è capingazzo zio ho detto l'arcomando posso entrare giro hanno metato la vita comunque regalo hanno metato la vita io ti avrei avviare più ma che è successo ma c'è solo partite veloce ragazzi a te ci sei ho fatto partire veloci zima tosco ci sei che esco da sta no però ma non sto giocando sto eh sto logando sto logando no dico a Livio c'è lui let's go bro eccomi eccomi sono rientrato siete anche te oh no 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 quello ti ha fatto del error Livio io sono ancora stando un secondo raga sì sì a me ha crashato tutto da chi è che deve entrare ma tu sì zio siamo ricrasciati di nuovo tutti a me no sì a me mi si è richiuso il gioco da vero sì sì è lupo è lupo è lupo è giovane sono io sono io non si non c'è sta capilla zia ma oggi è è impazzito più di ieri 3 a 3 ma dove sono gli amici? ma dove sono? dove sono? dove sono gli amici? eh sì analogico destro lo premi rb su amici ah ti prego ah ti prego joinate joinate velocemente da me da chi? da chi? da lui? da lui? da lui? da lui? no che da me che sono in partita sono da piro sono da piro vai vai sono da piro sto bestemmiando ma per che piro hai la pi che è di un altro mondo? dove cazzo sei nella lista del menù? porca miseria lupo bianco toscolano mont invita tutti nel party io ci sono vai vai sono accettato vai sono entrando vai che disagio rega un disagio stavattina partita veloce avvia via non voglio toccare niente rega non toccate niente guardate non toccare nulla io prima non ho toccato niente ragazzi manco io manco io manco io vai a letto vai a letto vai a letto ma lo so io ti sento doppio porca cazzo il demoniaccio ma che è? ma solo io lo sento double ma chi? devi mutare dal gioco muta la chat vocale muta la chat vocale lo faccio se non lo metto scolano adesso sta dicendo ma dove cazzo sono entrate ragazzi io non potevo farmi i casti miei non c'è più lo slide lei è un signore toscolano ho fatto giusto due game prima di uscire a me piace un botto chiaro il multi è sempre pieno di camper però figo sì anche a me c'è gear out mi piace molto vabbè il multi è sempre stato così fra c'è poco da fare però capisci un po' le meccaniche un po' il movement ti fai le armi chiacchiere con gli amici ci sta secondo me è bello è bello come multiplayer ciao Drew come stai? bello mio tutto bene? grazie per essere passati eh raga gentilissimi siete in hype per sto gioco? frega niente grazie per la condivisione vittoria e per il lectatone ti mando un abbraccio forse si può giocare raga oh mio dio forse forse riusciamo dopo 20 giorni è entrato e prova adesso prima vabbiamo 3,2 non sto crashando non dirlo non dirlo non è confermata spottino schifoso mamma mia ma sta mappa mi piace me gusta per gustas tu me gustana si ma non è giusto la vita comunque un pelino un pelino un pelino aumentata ma tutto tattata chi lato di questo è sì perché ho fatto il pallina tattica richiede ricognizione guavino dai e raga biondino biondino giro giro siamo a vigere sa parte o faccio 200 fps il crew insurdo stavo non mi trovo un po' più diesel ma di tanto ma di se ne vorrei nessun effetto sul vertaglio non capisco un ucciso dall'area operativa ti guardo le spalle non capisco poi l'amador si si è l'upe lupo adrio poi adriu ma adriu skywalk io ci rimedi spaccato io qua stavo caricando dove stamo me trovo zino me trovo comunque eh vabbè buongiorno lupo ma vabbè ma c'è ma vado che spacco il gioco state boni mo mi ingazzo zin mongazzo e ma che modo devo imparare a fare bagnuffo non si può non si può ha nerfato anche questo pure come cazzo devo giocare su sto gioco fermo frate devi stare fermo negli angoli Fermo! No dai che disagio zia non aver fatto tutto 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 Che cazzo giova? No va Ma già pagliaccio pagliaccio Sto impazzendo Sto impazzendo Sto impazzendo Sto merino è bugatissimo Che cosa ha giocato? No way No zi vai non la sempre si fa così Eh grazie Stasera sei con me giova comunque No mi sto iniziando a incazzare Se vuoi Guarda lì guà per fare la scivolata sono morto Guarda lì Eh è proprio qui Dai 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 Oh Dio però Io corro Basta tenere un po' le posizioni ragazzi Ognuno tiene tipo un vicolo eccetera Eh si non si può più pushare Assurdo Sto ricaricando E' l'unica cosa che è rimasta E' l'unica cosa che è rimasta E' lo scatto tattico è rimasto e basta Quello mi ha fatto modificare in boss azione Moda la mira dove premi due volte No devo mettere le modalità mirino coppa a corpo Oddio io ho attaccato Non ci credo Oh my god Sì sì check it out Sì 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 anch'io Ho fatto un altro Recupero rapido Faccio Come ti ha fatto a destra No C'è un fantasma quello Zio ho fatto un uo a v C'è un uo a v Lo tiro No mi sentite raga Sì sì Ok spuntano Oh spuntano Non vedo niente Chi cacchio è Ma che bussa Mi hanno affascinato Wow No e chi è che sta facendo a me lì Per fare entrambi Sì sì Sto scolando Ed glitch pazzesco E' lui E' lui Oddio ma quello là Funt Schifo Ua via alleato online Una è confermata Dovete andare a giocare a fortnite Oh Ma il giri di culo mannaccia No sì se hai il carno personale Però non si può giocare Sto giocando con le armi Con le base del livello 1 Ma che schifo Richiedo ricognizione aerea Confermato Ua via operativo in zona Ho fatto sciplodere di noi Questa è la mitraglie Questo come fa a sapere che stavo qua Che mi è venuto dritto per dritto Un culo assurde che stavo ricaricando Minchieraga quando salti Sì si cambia l'universo Tipo A parte che l'hanno cambiato Non era Non era per niente Come è fatto a non morire Ua via alleato in zona No cos'è sta roba Che cosa ho bevuto No dai ma Ma che specialità è No chi si è fatta ammazzare qua Ua via alleato online Aspetta che sto chiamando a Belen a telefono Guardandolo a vibra Culo No e niente Bisogna giocare dietro Dietro le porte Come il botto Mannaccia Ah si Un giorno vincezzo Non si può No non si può Sul gioco questo Quando non è più la bad Sulla bad si poteva fare Manco con quel metodo Che c'era Ua ho fatto la quattropla Nelico Nice Ragazzi Manco come si faceva prima Ho fatto in un altro modo No no Apri quello era un bug Quello lì Della Della mira Che preme di due volte La mira e facci Sì Sto ricaricando Passata Passata Per la prima volta Però ho spienato Alla adesso Non lo vanno Il proletto Il proletto Il proletto È F*** Nell'entrido Nell'entrido Attenzione OAB Musilare Anche Non si può Non si può Nell'entrido 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 Passaglio Marcato No Si se levate Lo svido No Quante killer di fila Porco il due Non ci vedete Dove è stato Quello Un'altra 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 non capisco perchè muoio oh Gia le spalle sono il mercato sono il mercato fatto? oh si è un mister furax ma ha rotto le scatole si oddio mister furax io quello ehm? come l'hai fatta quello lì? porco il 2 dai raga ma giravano mica da venire questi eh si è un tutto un saltare biondino faccio le messe in destra oh eeeh che smirate però qui fa pò la qualità del gioco ho fatto un botto come sono arrivato qua un genio è morto viro bruno occhio rega non morite ultimo minuto ho fatto la kill stavo per morire si è morto tosco qualcuno che viene qua da me da me c'è ancora furax richiede ricognizione vabbè vabbè avvio dobbiamo prendere le piattrine ragazzi uccisione confermata uccisione confermata per esempio bello il multi ma la prima partita che so vediamo oh non vedo niente però sta carino da fare con mannaccio biondino mannaccio biondino cambia gioco biondino po 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 scolano ah ma sei italiano se io non sei italiano ma è molto lasciato se non per figure di merda sta l'ho giocato dalla partita dell'agliata ma età ma che è poi la prima figura di merda l'abbiamo beccata abbiamo fatto già subito uh non va che da uh poco poco come to rome it's coming rome bro ecco qua poi cresciamo tutti eh no rego comunque sto mirino qua delle m quatro è rottissimo ah io cercano mirino no paura a far l'arma sfida successiva cresce tre volte fatta ho fatto ho fatto raga ho sbloccato la sfida cresce tre volte in un giorno cosa caccia tre volte un giorno la volevo mai a cagare ma chi era io io ti capire tutto il suo mamma me no sotto il tanto curio senza tentaggio sto capendo ma così baguardo l'ho scritto non avere vinci una partita è gusti cookies da giugno in giro a parti o bella stai vinci abbiamo perso una partita ciao massimo o una 2080 ti ai della rov street come scheda video e come processore un ryzen 7 ryzen 7 3700 x bro io ho un mobile m4 a livello 20 ma voglio vedere per sfruttare le mimetiche come devo fare vai mimetiche e sottra o almeno c'è scritto cosa devi fare fare i miei medici di vedere la domica aria bersaglio ricopro no cos'è quella cosa ziii ma non solo posso morire con queste cose ma non ha senso ah ma è eh qua saranno gli esseri c'era lanciato la prova nooo ma quando gli metto i piedi carico i nostri video quando va l'animazione madò madò no piugi piugi grazie per il follow benvenuto dai ma questo veramente resta mirato così ma io sto morendo a raffi ora prossima posizione trovo con una carica che non è assordente ma a vita vendo più i volpi che ci sono arrivo un assordente rispetto ai prend vote rap for Втор La Troxica strano or io l'amato l'amato 미 un m argentino consumer dovunto 24 dai che palle tutti i primati non avete uno a vivero vabbè ma questi tengono il corridoio state pronti benvenuti su sto gioco adesso non è che stai nella bandiera arrivo la bandiera io sono postata con l'area bersaglio dai questo colpo ma fai schifo zio è un posto proprio scoperto io fa un c**o ma tu vuoi il fuoco di m*****a basta mitraglietta basta ok impossibile finché tirano una flashbang serve il trofe da dentro ricarico tutti i bloccati da dentro ma l'ho fatto io oh ma guarda tanta roba c'ho io uovi oddio ricarico ti guarda le spalle che sogno ho fatto a questi è doppia l'hai vista posizione aggiornata buona un bombardamento aspettate aspettate no minchi ha tirato il cruz col bombardamento di lupo non ha ucciso nessuno ricarico ma è lento volete attivare le skin qua nooo da sopra ciao alex è modern warfare mv2 il nuovo gioco di code da monti con me ma hai capito per caso come si fa a modificare l'eppopaggamento si liberatela si si perché base che vai equipaggiamento poi clicchi x modifica vedete poi su armaiolo area bersaglio aggiornata facete tutti gli accessori non lo sbottino non lo sbottino non le cariche perso non lo sbottino ma devi andare salta all'ambiga un kangoo da questo ramperata io caricatore eh il cruz alleato in avvicinamento dai ma cos'è sta roba eh ma fatti pure a me i voto prima che è una vergogna con l'ambiga alleato online ma sei schifo ci ha fatto cazzo ho visto ho visto ho visto una carica perforante avevano un colpo in due pompa sono rotta io voglio fare la nude per giovane e va fa fassandito ma cazzo no no ma ce la ferrò ce la ferrò ce la faremo no questo è il gioco nuovo cambio caricatore io con l'asenza mi trovo bene no bene io con l'asenza l'asenza è diversa soprattutto è meglio mi trovo diverso controllo la stessa 12 e 12 poi se veniamo controllo la stabbandia qua che dobbiamo vincere questa partita siamo in due io e monto vinciamo vinciamo questa dai ragazzi ma prendiamoci un angolino in due cioè capito vai tra vai tra minchia ma distrutto vediamo di coprire ognuno un lato eh ci ho provato eh ci ho provato male non servono a niente e fai così guarda e fai come a me visto come sto coprendo bene mamma mia mi arrapi lupo quando sei così focus no com'è su warzone 2 non è che sia zero radio pascola si parte tutti da zero è un nuovo gioco è un gioco a parte quindi zero vittoria zero radio no basta c'è un uav il nostro uav è in sorvolo no guarda lo so ricaricando mille di danni ma come ne fanno sono già dall'altro lato sono usciti ragazzi mo c'ho il missile cruz ti faccio dire che non ci faccio niente tazzo missile cruz alleato in arrivo ricarico uav alleato online attenzione aggiornata conquistate la portazione dai cazzo comando perso dagli rega il nemico guadagna terreno dovete recuperare eh dai se avevo uscito a me 4 mi sto piacendo ogni tanto bisogna renderlo più bisogna renderlo più no però questo secondo io è buono live mi voglio livellare le armi tra poco la cambio vabbè pure il troficiano ma come cazzo giocano postazione dopo il troficiano io raga gli sto buttando tante quelle percorrante mi sto buttando io sono l'unico che sta a pompa e non fa nulla si sono multi che ho tenuto a fare la postazione prima se stiamo perdendo mi traccano benissimo dai l'ultimo manca gli ultimi due in flag venga raga dai i combi i combi no dietro dietro in flag oh poi poi mi rottisci da lontano si è uscito a testo finito novembre mario dai così c'era la piastra raga che tal ma non c'ho sentito che mi è arrivata alle spalle raga ma io non sento i bassi ho toccato proprio l'audio io zio sono solo in flag che qualcuno riesce vado sulla bandiera vado sulla bandiera no ma stunnato ci sono io ci sono amore mio amore mio bravo oh ricarico raga rio di massa contatto postazione in trasferimento ma dai ma non ci vedevo è possibile ma quanto è quello a parte che ha costato raga secondo me aspetta qui viene sempre conquistate la postazione venga raga quando prendono il giro qua sto muorendo a traffica una macchina esplosimo aereo alleato non è arrivato supporta aereo da un'ultimo destra colate a destra e lì vici tec che è è un po' l'ho preso postazione compromessa, liberatela no vabbè, si deve usare un'iccaglietta si, si, un'iccaglietta no, vabbè, ragazzi bagli le rotazioni, ragazzi no, ah, si oh, appunto, ma via sempre lì e lì e lì, e lì e lì e lì, e lì e lì e lì stiamo perdendo non è possibile che arrivò sempre quando è finita la banda, eh, porco due la banda, la banda bassotti? alziamo mamma mia chi è cosa che siete fanno male? ragazzi, ma posiamo proprio bene si, si fermi stanno premati dovremmo prenderla prima noi e non lasciarla si, si salta, si salta tutto il gioco si salta cosa ha fatto farmi da dietro? ma è colpo singolo sto coso attenzione c'ho io, chi mi ha sparato addosso? vabbè, sto pompa, ma ficcatelo no no, di nuovo esce il 16 novembre bro, il battle royale vabbè, sta canale m4 secondo me raga, sta canale forte io l'ho messo no 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 raga no e lì 2 mi dissocio come si blocca io livio mannaggia tutto mannola detta grossa è la detta grosso addio ragazzi prova a metterle in pugnatura all'arma ci vediamo tra dieci minuti io ho provato a metterle 40 vediamo dopo addirittura arma è cambiato no vabbè si si mi sono addirittura l'ho provata grossa della fede io ho portato alle m4 a livello 20 che possa mp7 eh no devi fare le mimetiche o troppo semplice così il più 90 lo voglio provare no l'mp7 ma che è sta roba bellissima crediamo 2002 con una carica perforante granata stordente partita no ma lui lo fa no vabbè no ma non scherziamo il nemico cattura bravo cambia tutto marietto ha cambiato tutto non è più cose se non è bravo non mi giocano a bad il nemico ha preso bravo fai 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 f ahahah c'è proprio branco tutto dritto per dritto con le auto cioè anche dov'è se mettevo a mio nonna a fare la mappa la faceva meglio a mio cugino metteva a mio cugino a lavorare a fare cadendo qualche amici era meglio guarda o avvi nemico in volo ti copro no way il trekking no i gettoni no no i gettoni no 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 c'è lei front sto strunzo ma per rimanere a Tossal devo comprare un U2 per forza in che senso in che senso GG puoi essere sub a prescindere lo trovo molto meno realistico che Warzone questo? molto più realistico che Warzone in che senso chi è morto vabbè raga io sto facendo fare i record agli avversari di chi vado là esplodono i lanci ma non muoio parlami ti copri ma chi m'ha acceso? non c'è sbagliato con il follo bello mio tu appena giri a sinistra dietro oh ma ma ho avvistato muoversi dà come ha fatto da questo fight incrivo se raga è la mappa più brutta che abbia mai fatto cioè che cazzo è? attivata non ha senso ma cos'è? vi dovete attaccare è vero è vero è vero è vero lancio una granata sortente stiamo su uno cattivo bravo no ho ucciso uno con la pancia esatto esatto io ho un paio di kg ho fatto così ma no ma rimane rebirth secondo me fino a novembre raga poi quando esce buzzi 2 la tolgono secondo me c'è da vedere nessuno di voi è andato su rebirth oggi? come grafica dicevo eh ma lì dipende anche dalla qualità che metti metti 4k non lo so gg i gg no come stai? t'apposto? è scaricato sto game ok sto ricaricando vediamo questa è la M4 di qualcuno personalizzata vediamo dove andiamo miravamo a macchina abbiamo abbiamo il sto ricaricando si macchio lei con la mp7 base non c'è di razza no 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 facciam a questo ma nivella uno è un progetto del nostro progetto l'avete cambiato è tosto a cambiare il progetto a ieri ho visto symphony che in dieci ore si è stato nello slide non prendo mai nessuno ma loro prendono me giocano prima di dietro le auto stanno facendo i spongebob ci poggio bob dietro le auto mamma mia che spottino che ho trovato non si può comunque non si può piccare mirati se no ti fanno 100 100 sono con te avevo fatto un dolphin diver bellissima io gioco così non ci credo ci sono però è la mia cosa come è brutta la mia redotta la poppa mannaccio grazie a tutti per il like beh i miei un bacione dal mondo difficile questo motherboard 2 minghe multiplayer se stiamo per alcune mappe che consigli di livellare eh non lo so marietto io ho provato la prima l'M4 che era rotta nella beta la sto sto provando questa qua però non so se sia top nella beta lo era vediamo che cosa raga ma non è una best aim sta marfa non lo giuro sto perdendo 10 anni di vita ma che cosa ben? c'è chi? UAB alleato in zona oh finalmente che è stato? oh mio dio Livio me li hai visti questi? eh sì 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 1,2,3,4 e 5 e boom ho già da esplotere la macchina no niente guarda aiuto mi sta ancora scaricando eh eh oh mannaccio come fa a vedermi da qua a là ci sta però mi diverto ti copro le spalle ti copro le spalle è morto è morto è morto è morto oh no qui non muovi eh ma c'è una a destra oh c'è 7 oh c'è 7 il nemico prende bravo non lo so stefano dovete dirmelo voi qui c'è sulla caldera adesso il nemico cattura bravo no no c'è ribert eh vedete vedi vedi ma io l'avevo dato ieri anch'io 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 grazie 10 novembre raga era impossibile eh ma cosa? ho chietto ieri sono ribert oggi non riesco a più fare un pick raga eh non riesco a fare un pick lupo no vabbè ma che cazzo ho picchiato tutti che invece di merda c'era eh non è morto con la graneta è totalmente schifo che lo schifo ti evita cazzo perchè io tiro le granate a cazzo come fanno loro ma non li uccido? eh pure io pure te da ormai da ore su sto gioco il nemico prende charlie vi piglia la mano ma tu mamma mia il mio panicatore stiamo prendendo bravo mamma davanti a quando smira le mie p7 è mai normal mamma ma quelle c'hanno i cerchi ma che si deve esplodere il computer il pad di mano tutto stiamo mettendo in fuga continuate non posso aprire come devo fare quel pick lì missile cruza alleato in uso adesso si 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 il nemico prende bravo come devo giocare a punteggio come stiamo massimo eh quando vengono l'abbiamo vinto ormai dai beh finalmente è finita interna un male gli amici quanto mi sembrava puntaото mingo ma è cuta stava dietro il secco dell'immondizia Twitter io ho visto tutta la skill di questo gioco in questo per forza quando la vendi tredici ho fatto per forza una granata bagatissima l'avete vista quella ragno tipo che la lancia una cazzo che si attacca c'è un ragno si che tirava contro il muro si la voglia basta voglio pur io senti come si mette il progetto non vediamo subito aiuto pronti armaiolo me sa fermo ho trovato armaiolo armageddon si è buggato tutto no si è buggato non ci credo raga lo sapevo aspettate raga secondo me devo provare ad uscire no non puoi uscire dalla partita lo sapevo si è chiuso il gioco ma no ma abbandonare parte aspetta miglia regali proprio il pc per sotto ma l'ha capito che in un gioco spara tutto specialità che tiene livio fantasma il castello il ceraio di base dell'arma il castello di san di san giovanni ciao a me come stai tatone buongiorno mariberto la levano con la nuova mappa o no questo non ho ancora capito si la levano il 16 novembre quando esce il battoroyal bro esatto grazie cami mamma mia che disagio basta è ok va bene lo sto dicendo scrasciato pure io ma pammo la prossima volta ci dici sei il progetto tu hai i progetti di merda non ci credo è cresciato anche lui perfetto perfetto tutto regolare no non è chissi chissi è un'altra roba non ci stocca bene niente però stanno qua tutto alessandro grazie per il like grazie a tutti eh marty vincenzo ale stefano francesco gigi grazie per la condivisione nicola grazie a tutti parco due ti mette l'ho trovato ti mette eh come se mette non lo so a one se la rimetteranno da quello che ho capito no ne metteranno un'altra di mappe similari quindi piccolina molto dinamica nei fight però verso marzo si vociferava no devi andare sulle armi e vai nell'equipaggiamento non devi fare armaiolo ma devi cliccare sull'arma proprio devi cliccare devi fare hai capito l'arma armeria e lui ti fa vedere tutti i progetti che ci sta sono andato da piro eh vai anch'io stai andando vedete qua vedete qua io sto cercando un attimo di capi ma fanno tutti schifo sti cosi modifico solo nel game ok ok ho capito no ma se i mirini uno peggio di un altro no come poligono di tiro che cazzo vabbè metto questo mannaggia Gesù ciao senza nome come stai ehi i trent finiscono subito i trenti? tu quale c'hai? 45 e i trenta? no io sto facendo l'MP7 cioè ah vabbè eh no e l'unica cosa sola è che ti leva la vabbè con parole tue ragazzi dovrei essere dentro al party forse qualcuno può confermare se sono dentro al party ho paura provo per la patria vediamo la canna la canna voi l'avete messa la canna ma io sono dentro da lupo dove cazzo? eh no con piro si ci siete ci siete ma manca mei ma è manca toscolano si manca maids 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 allora vediamo le missioni mi seguo i cinquanta uccisioni usando l'arma ho paura e mi guardo e crash allora grazie senza nome eh mi fa piacere si si è una bella squadriglia questa ehi lei è una persona molto sexy no che è successo è partito possiamo startare per l'amor del cielo eh un secondo ma ne siamo cinque ma chi è il quinto zio? toscolano ci sei? toscolano cioè ci siamo ci siete nessuno modifichi le armi mi raccomando mi raccomando non toccate niente nooo non toccate niente stai per il colore recupero profilo online pure a me davvero? nooo tu giuro quello ma si recupera? si si no no quello va ma mi vedo solo io no no crashato no way veramente crashato raga crashato buongiorno buongiorno sei uscito piro? che io mi vedo no no come no? no bastardo esci come no? mi ha 97 io sonokersato 10 eh? si è crusciato tutto anche a me ma vedi raga vado un attimo in cucina dai no non è andare in cucina che poi 3 ore per startare io so le cose che fa crashare sto pipolo di questo bipolo che non dovete riavviare il gioco regà ma l'ha sgamato ieri batman oxport the maze la gente c'è un'applicazione che si avvia in gestione attività che si chiama hq installere qualcosa si sblocca il gioco ma ti sblocchi cosa cosa? io sto sembrando delle robe strane inizio di mv2 impeccabile esatto aspetta che io ho disattivato quella roba che mi diceva gattuso vediamo se si riprende il gioco no non funziona non lo so marietto e chi è che devo entrare ora raga io non vedo te io stai entrando da mountain ci siamo ma le ho mai lasciare aspetta che sto rientrando non mi chiude neanche il gioco madonna ok ok mese è quittato non me lo fa vedere con noi è esplodo il tosco si è esplodo no scusco c'è no eccomi ragazzi non mi fa vedere il party mi è esploso la 49 anni che mi deve arrivare ciò rientrato raga sto riavviando il gioco è morto da ciò ma non c'è stato scolano hai visto ciao toscolano qui c'è pure il pure lupo esco anche lui si è bloccato anche a me ora sto raggiando il gioco stiamo andando in missione è così oggi non si parla non benissimo l'inizio parte partito infatti vedo che lo testano molto gioco l'hanno lasciato con lo stesso bug della beta uguale l'unica cosa che nella base faceva neop in via quindi magari ma io mi chiedo una cosa ma l'hanno capito che non lo spara tutto cioè si si dovrebbero modificare le armi per poterle utilizzare chiedo eh io non sono uno sviluppatore vedo toscolano molto cattivo gli occhiali arancione è seduto però è seduto però no no toscolano è agli piedi no è seduto è seduto si è credito che ti escono i parroidi no no dai è bisogno ma stavo fai sempre schifo tutti c'è ti piace fare schifo che aggressivo no è la verità zio stanno alle piedi scusami vabbè tu scuazzati ecco qua si è alzato va bene ecco qua allora lì è seduto dietro no io vedo lupo seduto e piro davanti lupo seduto lupo seduto lupo già sta sulla macchina guarda là sta guidando ma non chiede la padella toscolano seduto e me è seduto vabbè abbiamo capito che tutti vedono cose diverse vado in bagno va vi lascio con con destra e persone che vuoi fare in bagno? no si è bloccato anch'io vado a curarmi arrivo mi prego mi chiedeva di cazumi siamo cresciati 50 volte ho aggiunto no infatti vi sprechiamo è meglio quando aggiustano il gioco i cp ragazzi è bella domanda come si vedono? non si vedono? no i cp non è l'3 ci sono ci sono se vai in negozio che è buggato non me lo fa aprire ci sono si si vai in negozio ti preoccupi ci vediamo alla prossima partita no non me lo apre non puoi capire non me lo apre è tutto buggato vado e ci metto un po' di dietro premi di nuovo non ti preoccupi è crashato uno di noi comunque ragazzi siamo quattro no no vabbè come mi diceva c'era questa cazza già tre volte di fila mi dovete rimborsare i gettoni mi dovete rimborsare il costo del gioco forse non avete capito voi dicendo euro indietro basta no è ritornata pure ritornata indietro sono crashato anch'io per forza devo tornare indietro ci siamo no no non sono crashato non sono crashato non si ripresa andiamo a giocare la britta 6 no sono crashato io l'applicazione ci mette di funzionare davvero mother bug 2 no dai basta ragazzi no mi prego no 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 ma io ne ho mai non è vero non è vero non è vero piro ancora dentro ma star come ancora dentro vabbè io ci sto riaprendo ma che sta succedendo mi prego ci siamo ti prego piro dimmi che un troll party no 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 è un troll non è un troll sono io un troll è un goblin è un goblin no mi è crashato no davvero no no mi prego no a chi è crashato poscolano c'è i primari del crash per ora raga non dovete no sono io il bello all'ostra del party entrai da me per favore prendete il joystick mettetelo sulla scrivania raga basta ma solo io il lupo adesso no io il lupo in mountain si ho sentito il piro che è crashato sono crashato pure io li ho fatto a compagnia condizionare piangendo con le lacrime che da velo facciamo una mosh pit 3 ma i parchi porca troia formacino di voi mi dai una partita formacino no mi distoglio mi prego entrate ma come voglio giocare mi prego almeno che non toglie l'aggiornamento della la scheda video per favore per l'amor di invita i giocatori invita i giocatori formacino non vedo nessuno online raga che bello perfetto dai ti provo invitarti spero di non crashare no livi attento non farlo qualcuno si deve sacrificare allora dov'è toscolano invita ma fate partecipa scusate dovrei avere il infatti fai partecipa piro mannaggia perché mi devi far crescere dove dove sono gli amici formacino capite sto bene dove è manta in era qua l'ho visto ma intanto ma sei già dentro manta in cuori ma io non ho detto niente io sono a dove stai cercando livio non invitare piro non sono online iscrivere amici del par lavorare in un asilo e meno e meno confusionario ragazzi amici dai piro però fa il serio voglio andare in parti ci siamo a niente raga vabbè ragazzi se crash livio giochiamo lo stesso bastardo adesso mi aspettate adesso aspettate me adesso aspettate me l'ultima volta poi ci fa la c***a partita te lo giuro fai partecipa in gioco dai vedi se ti pentà dovrebbe far no poveraccio no va bene no va bene no va bene vanno a giocare per i c***i crash a piro crash a lupo crash a mania no no io ti sto proteggendo no lì c'ho lo scudo io ma tanto che siamo tutti a raffica raga lupo che stai a fare stai guardando a me c***o mi guardi non ti sto guardando pensa a giocare non mi trovo la partita tu mi stai guardando ma chi ti vuoi ma poi stiamo facendo connessione ma connessione è una cosa niente perché lì vi è crash a ah no z davvero no dai dai ragazzi ma veramente ti è crashato mamma mia sapete cos'è qualcuno che vede qualcuno che vede su internet per piacere io la butto lì secondo me rega in più di tre giocatori inizia a crashare perché in tre da stamattina abbiamo giocato da dio da quando è entrato lupo che era il quarto così iniziato a crashare tutto no 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 è il quarto giocatore in poi secondo me la sparo a caso tanto per fare un po' di flame casalissimo ahia è bloccata non mi si muove più neanche crash è uguale a me è un circo vede un po' di lag ah no no crashing a un pc 19 ore fa vediamo vedete qualcosa c'è da fixare vi prego è imbarazzante con questa cosa mamma ma fanno schifo fanno schifo a fare i giochi fanno schifo fanno schifo vede più fanno schifo a fare la squadra dai dai invitami oh che deve entrare oltre me solo tu solo tu manghi sì no e io oh qui è che andai indietro raga vivi non stava andando indietro volevo invitare per occhio scambiare schermata ma non cambiare dentro io da voi e non toccate niente entra tosco non tocchiamo niente partite raga mi avete in borsa un gettone resta mezz'ora per me funzionano ancora i cittadini visto che colui che scruda i risaccia quella qui pensate chi che fa fine di essere ok raga vedo due toscolani non ti preoccupa giovan a due start 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 ci siamo no non c'è tosco fermi non c'è tosco rega qua c'è un minifix però non so se è quello effettivo da fare però qua praticamente c'è da andare su grafica e poi mettere restart gli shader optimization così così si chiude proprio il gioco paura paura hanno detto che è quello se ti dà l'errore 0 x c 0 0 0 0 0 0 5 o 0 8 mettere restart shader optimization sei tosco e dove sta sulle start in grafica di sì ma mi sa che dobbiamo uscire dal party cioè il fatto è che questo ma posso start 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 aspetta si sta bloccando tutto zi ti prego fermo ma è andato è andato è andato è andato l'obbligazione ha smesso di funzionare ancora a te connessione la partita sto sette di fila io gioco da solo troppo ma provo a far quella roba fra però fare la ristorazione degli shader ma danno una mogra lasciato lui non mi trova la partita zi fa connessione ma magari questo articolo c'era il tipo che l'ha scritto che fa non mi stupisce di questa cosa dopo due anni aspettare il nuovo code ci sono dei problemi bellissimo ma è successo più o meno la stessa cosa che è successo quando hanno aperto la beta che il primo giorno quando l'hanno fuori l'unica cosa che hanno toccato il mario ci credo no anche a me si è bloccato anche alivio si giochiamo 8 secondi si non è più dire purtroppo roba è utile solo provate a far quella roba degli shader raga voi che siete al menù poi provando o non mi se io voglio selezionare il mio di equipaggiamento ma perché devo 50 minuti dopo si olè a questo mi piace se gioca fino a 6 danilo perché il multigiocatore questo ma che è la skin ma lupo ma che skin fighissima già è dell'operatore tutta grido come è che l'hai presa ce l'ho ce l'ho ce l'ho oh l'ho trovata aggiornamento playlist ma aggiornatevi la testa non la playlist eppure io l'ho avesso no mi chiede nessun aggiornamento purtroppo allora grafica riavvia ottimizzazione shader si secondo me è in grafica in display il primo sto ricaricando sto ricaricando un nemico in volo si si le classificate quello manca il gioco funziona ahahahahah sto ricaricando ora siamo in vantaggio siamo un ottimo in game dopo 6 ore dopo 6 ore che proviamo a entrare perché sta crashando che schifo vedi mentre lo fai quindi inutile alla fine si salteva vadi vadi ti vedo non ti vedo c'è entrato ma guarda quella gente come sto ricaricando era sdraiato mi stai invitando eh mamma mia che spottino guarda lì che posto si è preso quello guarda che spottino lupo guarda sto spot guarda qua lupo dove sto alla tua sinistra cambio caricatore vediamo noi che boh un crashato sette volte di fila poche munizioni aveva messo già livelli venditi io gioco da due ore un'ora e mezza di grande mi dice che sei lasciato tosco sto ricaricando secondo me raga come ha detto molto livio livio vieni qua guarda sto spottino non ci credo guarda cosa ho trovato mamma mia ma poi ok no la testa è giustata però giusta un'arma ma il sealer perchè rivediamo lmp7 bella sta mappa si andiamo a pesimo da ok io sto in un'ora mappa non non ci proviamo fede tosco qua a sinistra sta oltre tu fa mare si uab è in sorbolo per favore mi spieghi un paio di cose se oggi da console levano a rebirth eccetera no la levano quando c'eramo under warfare 2 il 16 novembre si mettono warzone 2 gratis solo il multiplayer la campagna ci paga è il gioco che mi è arrivato cos'è sto uab il nemico attivo è quello che ti fai quello che ti ha tipo ma non è niente non è funzionale eh eh sì sì eh anche la fatti non è eh i passi i passi anche meno comunque mia debilitante nemica distrutta ma com'è che il p90 sembra più più pesante di dai la granata non gli ha fatto niente qua dietro che c***o è avuto qui ma sapevo recupero rapido attivo non ha già la gente rumore va via alleato in zona modu eccolo lì ma con un mato il p90 non hai massimo che hanno mandato la vite rispetto alla beta sto ricaricando fia tolgo il pic no non la rimettono danni poi no 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 non ho fatto il giro come stai da quello che ho capito che si vocifera tutto a metà marzo cioè a marzo però sono tutte voci sai che cambiano pareri ciao massimo buongiorno era devastante quella carabine però non ce l'ho ammazzia zio perone ha detto è bloccata ancora non c'è che lo si sblocca c'è più ma io mi metto a camberà richiede ricognizione aerea ricevuto voavi in sorvolo sull'area ricognizione non c'è shite in l'obby contro di noi cambio caricatore che non l'avamo visto e mammo le becchiamo tutti per la seconda mena a partì la possibilità buongiorno a peccato le caldo ammo vinda ammo vinda è il tuo perto fio da fio da fio baggatissimo è un movimento così baggatissimo guarda guarda la pizza la pasta la pasta di fiochita c'è questo secondo me l'amico di bagger è forte vero monti warzone 2 esce il 16 novembre fra rebirth farti un skip rimangono fino a 16 novembre poi le leveranno a marzo metteranno poi una nuova mappa ritorno voi non rifacciamo la stanza rega siamo split vabbè ormai siamo in partita da inizio partita raga che mappa è non possiamo giocare in più di tre dai nemmeno perché sennò crasha il gioco io intanto ci sembra se voglio un po' e vantan e il tiro e dosco su questo gioco il gioco di più di tre è quello che è ma bro hai visto frate eh sì per forza scusi localizzato la nostra mappa fra io l'ho giocato stamattina fra guarda come carico il nemico sta conquistando il cugino brava andassi il nemico ha catturato la magia ma cristina con una mira mi sembra qualche fin dietro i muri porca miseria abbiamo pure ma è giusto giusto tranquillo france la mappa della formula uno che aveva un annunciato giusto siamo qui apposta che schifo ma da questo camperato ma manco mi impegna nel multigiocatore e ma non capisco dove bisogna andare sta mappa dal quartiere generale nemici nei pressi di QG proteggete l'area ma come si passa che è tutta una roba dritta è strana sta mappa vabbè vabbè non ho mai gioco vogliamo QG o QG o QG o QG o QG no no su letatevi tutti o le porte oh non puoi un attimo levare la mira che se te ne esce uno infatti questo è un'altra cosa niente mi arrivan da destra no o abbiamo abbiamo pure un team di BIP per noi c'è dobbiamo scappare più la kill oh questa mappa non so mai a fare un team di BIP ma che ha fatto oddio c'è questo shaitino ho premato una bombazza easy herl no no mi ha buttato la cosa dell'amp QG attivo andate a catturarla nemico sull'obiettivo che è stato certo reservolo beve lui vabbè per lui 1-1 chiedo una ricognizione confermato tutto basso in prestazione se no non c'è l'HPS intanto si vede bene comunque il nemico controlla il QG vabbè vabbè qua ci vuole l'assalto c'ho l'MP7 direi c'era qualche altro ricaricando mamma mia ricaricando mi sono inizone sì 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 oh ciao tutta no 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 la mappa però mi piaccia come fanno oh ciao ciao tutta oh è utilizzato guarda il QG è andato pronti per la prossima posizione oh dio oh dio che predict sono tutti fermi ragazzi sì ma solo questa quella là delle macchine tutto in mezzo al centro quella era meglio paradossalmente te lo giuro faccio fatica il nostro UAV è in sorvolo ricarico guardia generale online stiamo conquistando l'obiettivo a noi qua li stiamo prendendo tutti i pronti mamma mia se li stiamo prendendo no in realtà la cifra stiamo partendo 82 a 0 ah beh ma si ma sanno sempre dove sono 10 kill di kill bisogna l'unico per l'unico modo è fare UAV il mountain ce lo sta ci sta aiutando sono 10 sono 10 o devo cambiare devo cambiare il metodo dell'audio che non senti i passi solo che ho paura a cambiare l'audio tipo potenziali a bassi vediamo se sento meglio si sente fortissimo bro controllo del QG perso rinforzi inviati cambio caricatore no a me dici la Hightower vero cerchiamo il prossimo QG la canna si Hightower 20 no ma il mirino è 6z sro no ma almeno non lo voglio tantissimo minchia comunque raga l'elemento 17 quanto è difficile governarla sulla mira proprio difficilino che cosa? WTF? no ma mi scatta pure cioè non ho sistemato un cazzo raga mi fa cagare il cazzo quattro volte sto gioco il nostro UAV è in sorvolo vabbè poi li proveremo gli Hight glitch sono c'è mamma mia hai visto quello? attacco con mortaio ostile vicino voi sto ricaricando no stanno giocando in 5 fai? no è molto male è molto male comunque beh a gente mi piace ma non la so capito raga guarda noi stanno giocando in 5 dall'altra parte e mi stanno la sua lunga salve ma stai guarda guarda sanno già tutti gli Hightrich dio 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 vuavi nemico in volo esplosivo aereo in arrivo ma vabbiamo un uovi no eh è posto senso uovi è un chiamato ma 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 che felma? Tutti sono scopo! Eh? Ci sono giocati, eh? Non c'è un momentissimo! Abbiamo presettivo di cieli contro, ragazzi. Ci sono tanti di quei schiaffi! Sì, io sto... Non so se da tiltare, ragazzi. No, tiltare no. Un kill, sì. C'è certe matti, non me lo spiego. Eh, vabbè, ma... Ma ciazzio! Cioè, io ci sto giocando con un mp7 non sentato. Prossimo QG amminente! Prepara il prossimo obiettivo localizzato! Mi poter mettere la mia arma. Quella base, non mi esce. Bella che tosco. Niente, non faccio più kill. Ho fatto lì l'inizio... Boh, finito. Tutto futile. Eh, la da mix. Eh, l'umore, l'umore! Mamma, sto incazzando. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Un flashback che... Fui nemico attivo. Ah, dai. Stavo peggio. Wow. Si spara da finestra a finestra Ciao Matti Ma che c'ha questo? Il nemico ha preso il quartier generale Allora non ce n'eremo mai Eh zio Allora no Tu non hai spettato questo? E per cagare allora scusami E per cagare tutta due Il nemico guadagna terreno non permettete Per farla oro ti pighi veramente poco in realtà Eh non lo so lo sto cercando Oro? No no A me mancano 5 colpi mirati 5 uccisioni Ma di quale arma scusami? M4 10 uccisioni doppie Adesso ne mancano 8 E mo quando arriva al livello 19 mi si sblocca Eh carca ce n'è una difficilissima Tipo da fare le kill da dietro Cioè prendendo due dietro Stessa lobby di prima Abbiamo anche poi di nuovo loro Allora A palle oh Devo chiusare anche qua Uuuuuh Poi io c'ho l'arma a base zio Ma con questo Oh non sto equipaggiando Prendiamo tanti quegli schiaffi ora Sperate Chiacchia alla fine prima Prendete l'obiettivo Un po' da 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 Non ho fatto la scatola Attacco con mortaio Missile cruzo Alleato In arrivo Sapì Cazzo Adesso Va bene Non ci devo Divestare qui Deve Ma divene Non ci vettere Ma divene E' Questa roba Non ci vettere Oh, oh, mannaggia, questi f*** Questo f*** è scorbo, papp, papp, papp Ma non scusamava Ma vabbè, è finita la partita Sì, mamma mia, ma che disagio Che disagio Io ho ancora trovato un sacco di N4 di scena Non sbagliano un colpo però questi Stanno lì che guardano tutti gli angoli Sì, tutti gli angoli, tutti gli angoli proprio Sì, non ci becchiamo più che è finita a noi Ma dai, aspetta, massima allerta Che bello Ma perché mi dà che ci ho bloccato L'equivaggiamento multigiocatore, zì Unitevi però Noi a voi Eh certo È un bug, regà, regà, non mi fa usare l'equivaggiamento multigiocatore A che livello si sblocca, scusate Partecipa alla partita bloccato Vabbè, aspetta, vediamo Non è possibile, anche non me lo fa cambiare Livio Si sblocca lì No, regà, è un bug, io Sanno tutti, sanno tutti Regà, si è buggato a me Che è? Che ha causato? Eh, non mi fa usare l'equivaggiamento multigiocatore Dice sblocca a livello 4, su livello 8, zì Eh, non fa niente Non lo so Come non fa niente? Mi sei glitchato tutto Ma perché? No, mi ha crashato Ma perché? Regà, non mi ha crashato Sì Fa vede un po' Fa vede un po' Controller Ho messo roba qua Io ce l'ho schermata bloccata, voi? Io su questa roba qua Mamma mia che schifo, veramente Mi sa che non si può Non si può E in avanzata ho messo sta roba qua Prova a gioinare subito No, ok, questi qua sotto non li ho toccati No, quelli sotto non li ho toccati Arrivo subito Grazie mille per il like Beppa, Filippo, Mattia, Guma Davide, grazie, regà Un bacione, regà Buongiorno a tutti Avete messo a scaricare code? Regà Mi sentite? Io ce l'ho schermata bloccata, voi? Non mi riesce neanche più Mamma mia, ma che gioco è? Oh mio Dio, vi prego Mi si è chiuso Buongiorno Francesco Buongiorno, va bene, fa niente Gioco con le armi Ragazzi, troppati vissi sull'altra piattaforma Dopo un'ora di visualizzazione Sulla categoria Mv2 Ho sbloccato una skin Sto gioco peggio di prima Niente, raga, chi è crashato? Io Massimo tre persone Io, io ho crashato Uno Ah, bello, Valerio Niente, raga, non si può giocare Non si può giocare a cinque Sì, è un quattro, forse Eh, sì Massimo Sì, 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 è tremendo No, regà, chi è Che state comando? Chi è l'host, rà? Chi è l'host? Non lo so, chi è l'host? Sto facendo impazzire tutto Sennò io, sono io Sì, ma voglio sapere chi è crashato Io Tosco Tosco e Mountain Ah, quindi quando siamo due Il gioco decide A due persone che deve crashare Praticamente Sì, sì, sì Siamo in cinque Due crashano Centocento Sì, mozzi È tremenda sta cosa, eh Ma guardate che imbarazzante, però Spero già oggi pomeriggio Che fixi in sta roba Eh, sì, buonanotte No, Fra, non possono Cioè Non se lo possono permettere A lancio Stasera ci sono anche i console player, eh, Fra Ma secondo te? No, già adesso stanno i console player Zì, che stasera Già stanno giocando i console player Sì Non era mezzanotte? No Mezzanotte di ieri sera Ah, di ieri sera C'è un po' di fuso orario, Mo Sì C'è un po' di orario fuso nella testa Quindi con chi posso giocare, io? Dopo sono entrato in gruppo 3 Benvenuto, Michele Grandissimo, caro Grandissimo Ci sono Quindi come famo i gruppi, raga? Eh, ci dobbiamo splittare Primo che crash Io invito Cioè, vado Invito un ragazzo Amico mio Andiamo Almeno Zì, si è bloccato anche a me No, è crashato anche a me, Fra C'è un'altra più la partita No, no, Fra, è crashato Non ci voglio credere Parca di quel nonno Ciao Persicone, come stai? Bello mio Tutto bene? Ho fatto bene a non prenderlo Ma no Beh Ci stanno sempre i bug all'uscita Sempre stati in tutti i code Visto, raga Scusami Quelli che stavano giocando Tosco Quanto stavano quelli? Erano parecchi Non me lo chiude neanche Eh, sì Stavano in gruppo da 5 Niente, Piro, dai, start Ci vuole giocare Cioè Quanti stiamo in due? Aspetti, se abbiamo un posto Non me lo chiude neanche, Fra Non mi chiude neanche il gioco No, ma c'è Manteng Sì Eh, abbiamo perché abbiamo provato a saltare in 4 Niente, spettiamoci allora Dai, ci spettiamo Io gioco con... Ragazzi, mi è anche Perché i 5 si blocca 5, ma anche in 4, raga Anche in 4 Ma fa 3-2 Dobbiamo fare 3-2 o 3-3 3-3 o 3-3 3-3 trentrini andranno a Trentro Trotrellan Cosa... Dai, facciamo... Come facciamo le squadre? Però che falle, sì Cerchiamo a lo startiamo allo stesso momento Magari ci becchiamo insieme o contro Eh, vabbiamo di buccio, gruppo Dovrebbe essere quello dei follower Adesso lo dico subito Si è uscito tu, Manteng? Ehm, no Chi è che è uscito? Ah, siamo io, Piro e Manteng Sì Se non sai che faccio, Lupo Io sto... È quello dei volo Regolato di unire Lupo, io sto... Tu provate ad unire, tu e Tosco Vedete se riuscite così Vediamo, vediamo Sto rientrando in game mio Ma quindi te le vi ho posi A provarle a farle l'arma adesso Sì, in 3 sì In 3 sono riuscite In 3 fare cosa? No, mi sei chiuso Giocate, giocate Dai, basta Si è chiuso Non stoppate, sì, sì Dai, giocate Nella era un'anima 3 rag Siamo a 2 ora Territore Eeeh Arriva Però lui ha aperto le armi Però lui Piro ha aperto le armi Magari è quello Tra l'altro mentre cerca la partita Ah, siamo a 4 ma qua dentro Oh, vado con altri ragazzi Almeno ci dividiamo Sarà un marzinello Va bene, te lo scuro Vai tranquillo Beh, tanto fixeranno Riusciamo a giocare È andato Con chi va? Ho scritto Tu rientra Entra da me Entra da noi Mantene L'uomo Ah, a posto Andate, cercate Poi se c'è spazio Entro Sennò, vabbè Ci facciamo due chiacchiere Poi è crashato di nuovo C'era Imbarazzante così però Eeeh Wow Che dove hai scritto Gattù? Tra l'altro adesso Ma a me va a scatti adesso Tra l'altro No, però è crashato di nuovo Che palle Spera, aspettate un attimo Raga, madonna Una bestiaire Stamattina sto gioco Cioè, tre ore a girare Non trovo una persona Trovo la mina a terra Ma vai a cagare Voi siete partiti in due? Eh, sì Eh, siamo rimasti in due Brodì, sì Sì, però ho partito La raga, a me mi è crashato di nuovo Mentre ho aperto il gioco Sì, ma proprio incapaci Alla livello Allo dovrebbero proprio Rifarli da capo Dovrebbero proprio Prendere il reparto Buttare tutti via E rifarlo da zero Sì, ma come fanno Non testarlo più che altro Prima di giocare Ah, qua c'è scritto Che potrebbe essere Anna viaggi sviluppatore Anna cagnà proprio Lanna vanna baa Cioè, mi si è chiuso A partecipare Non è possibile No, vabbè Ormai ogni Call of Duty È questo, Fran Non va È vero Fanno a cagare però, dai Cioè, bu Eh, niente Quindi io moso da solo Prova a girare da noi C'è il posto Io ho joinato Ma crashato È assurdo, raga È assurdo È assurdo È assurdo È assurdo Vabbè, fammo 2-2 Che vedevo dire Al D1 è normale Che c'erano problemi Ni Non così Non così Non così Non per la versione Finita del gioco Ma il gioco è a pagamento Questo problema c'era anche prima Ai due E poi c'era un problema del genere E poi piacere Eh, ma ci sta la beta Dici Vabbè, la beta Han visto il problema Lo fixano Capito? Guarda più che fa il dive Dove sei che non ti vedo? Non ti vedo Come ti faccio a invita? Mi vedi tu? Mi puoi ragionare Monten Io Ma basta che fai così Clicchi tasto centrale Poi clicchi RB Se non vedi nessuno nel party No, io sto vedendo gli amici Ma non ti vedo online Ah, non vedi me? Vedo gli altri non te Anch'io Anch'io non ti vedo Ah, sì, eccoti Ci sono A posto, a posto Ma vede Ma vede Si riuscì, ma Cosa 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 Va bene Ma Grazie Non so che la senza Che non va Comunque La senza è un po' diversa Raga La senza sul multi È un po' diversa Sì, sì Lores C'hai ragione Però Questi sono Bug belli Belli tosti Cioè Che non ti fa giocare In kumpa Non ci credo Ho lanciato l'avv Quando c'era il Ma poi passi Che non si sentono Livio Eh, lo so Che dobbiamo fa' Guarda, non l'ho visto questo Boh Mi ha fatto spawnare Su una carica Praticamente No, non mi dire Che questa è la mappa No, del No, delle macchine Abbiamo fatto Te l'ho fatto Piro, te l'ho fatto Capito Lo scatto tattico È proprio inutile Secondo me Fare scatto tattico Automatico L'era che ormai Dai, io voglio trovare Mi sembri Te l'ho fatto Nener volte Ti Non lo scatto Shut the f*** up N verbatino Shut the f*** up No, lo smacando инг Ho bloccati ERF Aggressivo No, ma Sono Bostana Votano Vincere V forward Guarda E Ah Easvio Easvio Di Vincere Vincere AlBS Quindi È 와 stazione la vada ci potono le macchine, ti capisci dire? mamma mia sto ricaricando guarda la vada ci potono aiuto stiamo in vantaggio si è nata ma ci sono fatto con la macchina, come si fa? oh ma è ragazzo sta pasta si si è in arrivo i maccioli non ha senso di sistema sto ricaricando stanno tenendo più tiro uav nemico in zona adesso sto ned glitch anche io schifosato devo la vada Lolo cambio caricatore mince raga dovresti girarmi ricerca postazione preparatemi vedo niente ricarico non è una massica bomba non è una massica bomba questa nemici nel perimetro in attesa area per taglio aggiornato ma che stava facendo questo non fai ad essere in serie zio ma che sto camperà ma ecco vabbè questo neanche mi ha visto e io non l'ho visto attenzione area bersaglia marcata fuoco alle polveri mamma mia vediamo quante ne faccio def�azione da 3 con esplodivo aereo strategico area bersaglia marcata 8 8 se prendiamo il team di Kree livi prendiamo tutti quegli schiaff che non ho idea ma io adesso sto giocando abbastanza bene ok scherzare Viti. Viti, 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 sono dei draghi. Lì sono proprio bravi, sono molti. Ti vedo che c'è un'esperienza. Non ti preoccupare, sto spaccando il culo a penne e fa vieto. Questa una cosa. Noccio. Ma infatti sto morendo male adesso. Infatti devo stare zitto a Dom ormai... C'è un problema, Z, c'è un problema. Ma bello grosso, proprio. Voggio la tonno! Ma pure l'arma zio, ma le leppetate come si farà male. Non riesco a mirare. E l'ho provato, non era male. Eh ma ha bombato, c'è la mia città. No, è in sorvolo. Ah, è vero. Sto finendo. Sto finendo. Un culo orizzontale. No, ma prima ho impattato da best aim. Un gioco da best aim. Qua inizia la best aim. No, l'agito no, però. Così. Non c'è! C'è qui, li spawn kill sono tremende. E mi senti a putt. Cambion de fifa, questo è peggio. Però è carino. Un po' noioso lo è però, dai raga. Vedete quello che volete. No, a me piace. A me è in casa. No, è impossibile. Siamo a metà missione. Muovaci aperti. Giù. Bello, bello. Non è un attimo. Bisogna capire. Gli epiclic. Dove esce la gente. Poi si... Capra le spalle. ...franca bene. Non vengo un fight. Non vengo un fight. Non è bene scagare. Ricerca postazione. Go, go, and go. No, l'ho fatto. Ho fatto. Ho spuntato. Ho fatto. Eh si, è camperato lì. Fa pietro. Liberatela. UAV nemico in volo. UAV nemico in volo. UAV posazione spostata. Conventate l'area per stadio. Pazzito, è pazzito. Sto ricaricando. UAV alleato in zona. Si, questo è il multiplayer. Dove da uno? Ci sono varie modalità praticamente. Mostra ma fa... Che schifo. Che cazzo è questa modalità bro? Ci sono confermata. No, questa è postazione la nostra. No, ci sono confermata raga. Ci sono le piastrine. No, Livio. Buongiorno, Livio. No, vabbè. E' stata una lunga mattinata. Sì, vedi cose che non esistono. Attenzione! Eeeh... Aria per stadio aggiornata. Ragionata. E' la mia chart che sta prendendo il pezzo. Giustamente. Però io non riesco a giocarla questa macchina. No, manco io. Infatti dicevo cosa... Cos'è che ha fatto Lupo? Che non lo volessi. Mi sembra un po' sconciato quasi. Mi piace tanto. Eeeh... Sto ricaricando. Non ci sto mettendo da poco. Eeeh... Non ci sto mettendo da poco. Eeeh... Non ci sto mettendo da poco. Eeeh... Proprio... Mamma mia. Infatti... Allora, fai senti a me. Senti a me. Fu... 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 No, ma secondo me è sto merino. Livio. Balgatissimo. L'ho detto di ciò. Eeeh... Eeeh... Sì, ragazzi. Mi ha dato un messaggio. Mv2i del movimento del giocatore del multiplayer di Modern Warfare 2 è decisamente migliorato rispetto alla beta. Ora è molto più fluido e più riesco. Assolutamente no, Lorenzo. Assolutamente no, 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 no. Era più veloce nella beta. Qua è molto più lento. Mi ha rallentato tutto. Mi ha rallentato tutto. Mi ha rallentato. Mi ha rallentato pure io mi sono rallentato. Che cosa Emanuele? Ma non lo prendo. Non lo prendo. Non lo prendo. Non lo prendo. Che cosa? Fate proprio bene. Mi ha puntato in zona. Non lo prendo. Personale di minore in portazione. Sì, non lo prendo. Non lo prendo. Fa vietto. Ma a casa devi stare, fa vietto. Fa vietto. Ma a casa. Manco come la beta che uno fava sempre i banni off e si diverte. Un mino di skill, ragazzi. sai cos'è, secondo me cosa pensate, cosa hanno fatto, hanno detto togliamo lo slider, togliamo il bunny così la gente che erosica la gente che erosica lo prova, vedi che non c'è sta roba, lo comprano e poi fanno l'aggiornamento e mettono a posto sicuro 100-100 bro 100-100 bro 100-100 milioni facciamo 80-100 dai sono stato ucciso da twitch merdino raga nooo nooo non merdino che io pirosh io sto ancora testando armi, nel momento in cui testo armi muoio male ma che cazzo se frega eh no il primo che entra gli tiro una bazzurata nel culo ah spugnato proprio no no ti sono rimasto a tre perché ho fissato no 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 oh oh eh non saprei non saprei davvero prova a toglierla eh va a boia vabbè imbarazzante devo fare dei test non so ancora c'è ancora sta roba che si spara senza mirare ricerca postazione preparatemi non è possibile lupo non vuole crederci it's not possible dice credo ci sia il suono a in fuga continuate così no bravo tu devi vedere questo come mi ha fatto con la granata imbarazzante non è sempre ma fa molto via attende inscrizioni 1 1 chiedo una ricognizione confermato che è in un rischio un ruolo su ah si è inserita 5 a sua fatta esplodere la casta lo vado vicino pure obbide obbide madonna king il gioco è finito è bello a me piace manuile mi piace Cree buongiorno grazie a tutti per il like un bacione a me piace molto è un po' più statico è un po' più statico meno dinamico c'è da tenere più la posizione la copertura bisogna stare in mira conta molto il timing è difficilotto però mi piace a parte i vari bug di Crash Cree che non riusciamo a giocare in più di tre persone e Crash ok 17-18 allora sblocca di perforanti ma le altre modalità che non avevo visto ci sono delle modalità che non ho capito bene che roba è le altre modalità di multigiocatore bella Francesco buongiorno buongiorno I don't know bro I don't know no nothing nothing vabbè brody brody basta invitarmi ragazzi basta ciao ragazzi chi è questa gente che abbiamo contro non lo so di ti guido diego little wizard ma come si fa inter la mimetica raga 10 volte meglio di tutte le altre armi cos'è sta mappa perfetto bel movimento non esiste crei quindi insomma fatti fermi come si fa a vedere le mimetiche raga vai allora signore noi dobbiamo scendere dobbiamo andare ah zero scangherzata dove non dobbiamo andare dove andiamo dove non andiamo via brava è fermo quello lì è fermo da tre ore sto qua 3 aua controllo ok è un glitch l'ingredito abbiamo perso bravo lì via oh no non è possibile sì non è possibile ma poi ma poi sono più discite guarda incredibile bella open non c'è la sensazione si sta andando bene non ho fatto più una kill stiamo prendendo bravo quando quando ti devi girare male è incredibile quando quando ti hot ti devi girare male ti fa tutto storico Questa è la quinta volta che mi bombardano Questa è la quinta volta 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 niente fra vabbè vabbè fai forza zizi deve giocare 3 zizi vai a 4 e 1 1 lo butta fuori mo al giorno decide lui eh sì perché gioca con la pistola india con la pistoletta sto bella sta mappa comunque l'ho detto carino eh cioè puoi anche buttarti dentro l'acquetta per farti il bagno e caso puzzi uh sono sott'acqua zii ma te l'ho detto ma tom quando è bella l'acquetta l'acquettina sono dentro la galleria sottrasutto smirato ehi no fammi cambiare volevo provo i cecchini ma dai raga ma non si vede nell'acqua quel m'ho ucciso dall'acqua sto stronzo è vero è tipo battlefield una cosa del genere l'avevo l'avevo sentito che la volevano fare una roba tipo alla battlefield ma che facessero un gioco così riesce a giocare che non si capisce niente perché 32 contro 32 è un macello già qua non si capisce niente che vuoi che vuoi tu io avevo visto uno dentro l'acqua si è un pesciolino di merda un pesciolino oh pesciolino oh pesciolino oh guarda questo dove era dai si no no ovviamente no ma ok c'è tre ore per fare il giro della mappa poi vi trovo poi di pace la cesare che stava uno campionato in un boss allucinante tra l'altro mi ha sbloccato un trofeo vuoto raga senza dirmi cosa sbloccato che cantante che cantante guarda dai ma che ne sapevo che c'era un altro muretto la lani e mi mamba no me lo vado sott'acqua ma si vai a pescare fai quello che ti pare vai a pescare non posso sparare sott'acqua ma fangu ma ma te che cazzo vuoi Non capisco perché ogni tanto L'M4 spara giusto Erobo mi ha fatto morire Hai fatto un tuffo a mare bellissimo Hai visto il tuffo? No, sono morto Sono morto, zì Ho fatto un tuffo, mamma mia Pappette di palombo Palombo di petto Bella Alessandro Come assiste zì? Adaffanculo, tutte e due, voi le flash di vostro car No, andate No, alle spalle Non si sentono i passi Questa ha bruciato alle spalle Dai, ma io non mi posso buttare giù il radio così Ma che te ne fregate il radio? Ma che il radio sul multi Il radio Ci tengo Sul multi? Sì Ma non ce la matò No, comunque si giocano fermi Fermi immobili Bisogna trovare un modo per fargli il giro E fredderli tutti da dietro Perché non c'è altro modo Lui vuoi fare il bagno Ah, mi hai visto? Sì Eh zì, nell'acqua si va Dieci doppie Ma gente che esce da dietro i muri qua Non posso partecipare da voi Siete full, mi dice Ma perché io non trovo nessun nemico per ore E poi ne trovo uno davanti e uno dietro È una roba allucinata Eccolo 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 Il bomba Il missile pure Eh, se è normale Mentre spawno Si dà coscire di tutti quanti su di me Siete venuti Guardate, sono spawnato E sono morto con missile Guardate, mannaccia, mannaccia Aspettate Sto tiltando, sto tiltando Mi hanno dato fuoco a me Eeeh, vabbè Olè, raga, si vola Bastardo, maurone Sto tiltando, pezzo di un'infame Chi è che saltava? Io, 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 io Stavo saltando io Forca di quella No, regà, non prego Guarda, guarda Ma io mi chiedo come fa Ad essere dietro la gente Se sono spawnato Non è possi Non prendete questo gioco Non prendete questo gioco Non l'ho comprato Trove controllo Ringolo orizzontale Starman Zero Non l'ho comprato Non l'ho comprato Zero proprio Devo aumentare la sensibilità di 10k Madonno, quando ringula Oh, chi è stato? Ma voi i passi? Andiamo a parlare? Oh, lupo c'è la mia sinistra Vuoi parlare dei pazzi Che sento di più la voce di lupo Che se si muta da Discord Che i passi nel gioco Ma quello con la pistola Ma che vuoi fa con la pistola? Che mi sembri mio nonno Ahahahah 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 Il rambo è venuto Ah, la pistola Ma che vedete nel culo Nooo 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 Oh dai, è impazzito I sapo secchi Dei mangiati i sapo secchi Attento dei passi Con l'ho, con l'ho Sta qua sopra La sapo secchi La sapo secchi Aspetta Giù modifica l'arma Eh dai Ti prego no Ma io Ascia l'uomo Arena Minch in questa mappa Prima abbiamo preso Crizenant C'hanno fatto il culo Giù sta mappa? Mamma mia raga Madonna Zì Non è possibile Ma quanto giocavano Io sto per bestemmiare Ma per chi l'arma di quello Mirava veloce? La mia mira lenta Io tengo un MP7 Ma Beh la GC Batti Nappangu Come stai bello mio Grazie per il like raga Hanno fatto l'M4 senza calcio Che fai? Spare a me Sei scemo Dai Ma perché stai giocando Con la Desert Eagle Zio? Cazzo sei la Pantera Rosa? Ce l'ho sopra Ma come si sale qua sopra? Con l'ho qui A me piace molto Non è facile come gioco Eh cicci? Però diciamo che è più alla portata di tutti Togliendo il movement Hanno un po' Riassettato Tutte le abilità Che hanno i player Quindi Diciamo che se stai in mira In head glitch Puoi far chiunque Anche uno Anche uno che magari C'era 10 di KD Capito? Nel vecchio gioco Fatto bene Un po' lentino Bisogna un po' Abituarci Sì A me piace Contando che è l'inizio Può essere migliorato Buono Buono Hanno fatto un bel lavoro Secondo me A parte i vari bug Che ci sono Però Che cazzo è? Mi ha lanciato la flashbang Me l'ha lanciato addosso proprio raga Basta Mi ha lanciato solo No raga Ma sta laggando troppo Però adesso Che si viene? Amico amico? Ma fai un mucco No Niente Ne fai uno Ne arriva l'altro Ne fai uno Ne arriva l'altro Ne fai uno Ne arriva l'altro No più che altro Il lagg è tremendo Dai raga Ma che cazzo di L è Ma perché mi si dici? No brodi Ma brodi Ma era così bello Lo slide cancel Vabbè 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 A me il gioco Non fa impazzire Bomberdi Dico la verità Preferisco fare la cacca Ma è bello No Dai Ma cosa ha detto Ma è imbazzito Vado a questo Vado a questo Buon l'hack Quello è lì Vio fermo che lagga Nella porta Quello è lì Vio fermo che lagga Quella partita Dai zi Non parlare Non parlare Vai a letto Vai a letto Guardi a caricare Guardi a generale Mamma mia Vai a letto Prova di unirti Oh l'ho appena risaltato da po' 10 minuti Tanto crash Poi Vabbè 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 Ma che gioco di merda E fino a qua siamo tutti d'accordo Si è ribloccato, niente, niente Ma che poi dico Giocabili, giocabili Ma che poi dico Sto problema c'era anche nella pesca Un mese di, di, di cazzo di tema Eh, cazzo di tema Eh, cazzo di problema Niente, che devono fare, niente Cazzo non si fanno le, 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 le aranciche Chia raga, lui mi fa morire Io spero che... In questa situazione non c'erano più capi Deve fallire, deve fallire, ma subito No E' rimasto Hanno aumentato un po' la vita Ha nerfato slide E l'altro Non fanno fare quelli di attività Beh, ha nerfato la vita nel senso che è meno o più? No, è più Secondo me è un pochino di più E' un pochino di più Fra la beta morivi prima Adesso qua devi dare qualche colpo in più Non si chiude neanche fra il gioco Cioè talmente... Si, ma lasciala aperta, quello può stare Che cazzo vuoi Minchia Piero sei Incredibile Piero ormai sarà segnato Si, boh, è finito E' finito, per noi non ho più motivo di vivere Nooo Sinceramente Buona game Vabbè, giochiamoci Stiamo qui Dio, tra noi è il menu perchè si è buggato la partita Che cazzo vuoi 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 Fondo il gioco che hanno deciso Ma introduciamo una Un'affigine che permette Rinforzi in arrivo Ai giocatori di più Ai gruppi di più di tre giocatori Di crashare Aranto Ma non ti capisci Cioè se stradate il multi in cinque Con un party di cinque persone Due Crasheranno sicuramente Ma non ci si attacchi Questo è il bello E' un nuovo E' un nuovo gioco Se ne ha Dietro quando faccio la challenge Raga Vuoi anche tu che activation fallisca Chiama anche tu l'800456 Allora seguici Vuoi anche tu che activation fallisca Chiama il 4-1-4-1-4-1-3-6 Non è il tuo uno per mille Ah c'era l'invasione Uno per mille Per pagare i cheater Per rovinare il gioco Io non capisco Io ho paura di invitare i lupi Cioè io ho paura Io ho paura di entrare nei menu Io ho paura di entrare nei menu Per invitare i miei lupi Cioè Che cazzo sai lupi Vero che da oggi iniziano a uscire tipo i meme raga Tipo boh Su questo gioco rotto Per le più metrate da lini 100 euro 100 euro 100 euro Dicendo euro Eh sì fa male 100 banami Ma il mio led è cancellato 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 Ma non la pura Ma non la pura Una burrata No 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 Tanto crash apirò Che Se modifiche le armi Crascia tutto Attenzione Siamo in quattro Vuol dire che adesso uno crescerà Saramonte Ecco Livi sporco 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 8 11 12 8 9 11 12 11 12 12 12 12 12 12 13 12 13 14 invia il messaggio io provo a gioinare ma tu Piro sei in partita ma non è che è Piro che tarocca tutto raga ma è Piro che rompe è l'unico che non crasha è l'unico che non crasha lui quindi è lui la merda amici della postale si scherza server pieno manteni entra da me è server pieno mi dice Piro ma insulta qualcuno lupo ma ho insulto tutti l'insulto lupo bianco e ingratto ma ci sono due posti ci sono due posti raga connessione mannaggia no un posto in realtà dai dai vabbè mont ma dove stai chiusa gsm rda levia no si è crashata non ti vedo più no come ti permette di spararmi ma fa schifo un bibino no raga sono lì sono perché ma non vanno partecipa si ingresso raga server pieno ma ti dà no invita mi invita perché io sono secondo il gioco io sono nel party di lupo e Piro secondo gioco apposta che però sono nel menu loro giocano e io sono nel menu però sono nel loro party circo circo invita mi manda si si sono i passi madonna ma che puoi sentire qua si gioca con la frutta zio con la frutta ti è arrivato ci sto provando potrei crashare vai tra ormai non è neanche più da dire che circo raga che circo mannaggia vanna schiatta faccia tutte e tre ooooh finchia Piro al 26 aspetta non posso entrare perché sono nel sono nel loro party ah no adesso no vabbiamo a invitare anzi no entro io da te vediamo se riesco calma calma parteci alla partita ok si partiamo via uff 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 posso cambiare l'operatore o dici che è anche l'operatore no pure l'operatore si distrugge niente via dai raga ma non puoi ma si blocca pure certe volte mamma mia ma che gioco ma che gioco ho fatto con i piedi dei bambini proprio lascio mi stare i piedi dei bambini aiutare che questo gioco fa il trigger ave l'anima proprio nata lupo va camperato nella stanza guarda che abbiamo conto olivio che devo fare devo recuperare fra abbiamo fatto ciò devo fare noi stiamo per giocare abbiamo olivio hai visto i nomi no 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 chi cazzo sono vai a vedere c'è discord mannaggia carlo ti cracco dio bacchi dei manopoli ma cos'è che hai fatto cos'è sta mappa grande bevo questa azione qua come è molta grande non so come si va come si guarda la mappa qua qualcuno sa come si guarda la mappa ma mamma ecco qua fa bacchi sono i muri noi sta roba fra nooo ma mi ha annunculato la kill personale nemico alla portazione che so sta roba dai zimba ma mappa mappa basta andatemi a te mappa attenzione ma io le mie preset tra poco la tolgo raggio ma tu è un cesso di arma ma proprio non è bello usci è così bella, guarda, mi sono morto la Simba che ci va la Simba? Simba l'acqua liberatela prossima postazione imminente che prenserà no però andrà a rimettere la vita forse era meglio la vita un po' più bassa area bersaglio aggiornata raggiungete la postazione dobbiamo busciare la postazione? ehm, sì oddio fatto fatto era tv avv quando passavo disgraziato postazione compromessa è una sorpresa sto ricaricando no no è un pensiero non pensare chissà che no, vabbè ci ho svegliato però niente quattro no, c'è un altro destro visto, visto che ho avv l'ho col pompa Sì, ma Uav in volo madonna via U Oh Il mio grande sito nemico attivo non devi scogliare Ricarico Ma la granata che mi prende dietro le 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 I nemici hanno lanciato un missile C'è uno al lato a destra lì, è entrato lì Estrulltivo aereo in arrivo Dai, qui c'è un altro No Ti copro le spalle Dove riguardano, ok? Comunque, comunque la Rolina fa meglio Poi, alla prossima C'è una legale No, sono già lì Esatto, Mauro Easy camper A proposito, è vero Ci sta nemozionando Mi sa di no Mi sa di no, lo sai Sì Però potrei pensarci Quello o quello lo faccio gratis Venirei a Roma a trovarvi Io non capisco come... Passi per caratterizzare Sì Hanno rovinato la giovane Prossima postazione imminente State pronti Dai, madonna Stai rigiogli Ho fatto meglio la bad che il gioco finale E' assurdo Assurdo, assurdo Quando devono migliorare il gioco Lo peggiorno Giriti, giriti Sei scemo Stai facendo il Dolphin Dain Va addosso al lupo Oh, dietro al lupo Cambio caricatore Bella, ci scuola Uno sta arrivando da destra Siamo a metà missione Grande Riprendo posizione in alto Dietro Guardi 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 Ricerca postazione Preparatemi Posto Guardi Oh, missile 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 Va bene va bene Vai vai la next Vai la next Lasciamo via Next Prozione Spostata Comunque La mia pesetta A me piace Questa è un po' di quintale Senza mille assistire di kit Da usare Dietro 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 Man Non ci stanno Non ci stanno Non ci stanno Non ci stanno No 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 Occhio man, dovrebbe essere lì a destra Madonna occhio, sono in efflu Bravo Sopra, scusa Bella questa azione Eeeh, dai, ci stavo brattando, non è giusto Ma lo vinto, su un cazzo What? Fatto, fatto E' un altro da... Uno ci sono dalle scale sicuro, manco Eccolo l'ha fatto Raga stanno giocando, no, è il problema Sopra, eh Il problema è che non richiede più una scale minima, è questo Il problema è che non richiede più una scale minima, è questo Il problema è che non richiede più una scale minima, è questo Granata Sopra ancora Perché l'hanno reso Visto, visto, visto Fatto Dietri me Bravo, 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 man Sono dietrita, eh Eeeh, next, next Ok Fatto È mia, è mia, è mia Sono morto, sono morto Sono morto E non riesco a... Sei lupo, quello ti stava sparando Ma se non lo uccidevo io, no? Cazzo la c'è Eeeh, non so E' un missile di sto pipolo Ah, sono almeno in due C'è, non so Lanciato tutto Eh, sto giocando lì Che devo fare, che devo fare Un'altra c'è Un'altra c'è Un'altra c'è Ah, dice che ci sono forse le mosse finali Però io non le ho viste Ah, ok Le ho viste, le ho viste Sempre quando mi gratto il culo, raga C'è, il centering di sto gioco qua è 97% Niente, è un bel appunto Niente, è un bel appunto Noi eh Naturale Ah, equilssolo ?! Oh, ogni volta mi prendono tutti Questo, incredibile Wow Scusate cliente Dai, voi ti han facciato Ci arresto su Pinesi ...so vale Il nemico in volo Sto ricaricando Ma che sogno c'è dove sono C'è sempre Cazzo C'è sempre Cosa Conquistate la postazione Andate giù ma perennemente buffandato Ti copro le spalle Cosa Col pompa Occhio sotto Sopra Uno della porta Sopra sopra Sotto Sopra sopra era C'è osso giocare così Di call in due andare Sennò c'è Sniffo dove No No Sopra sopra Dai raga ma È la terza volta che sono scesa dietro Ciao Marco Warzone 2 esce il 16 novembre Il 16 novembre Foglieranno anche Roberto A farti un skip dal vecchio COD Ciao Luca Buongiorno bro Tutto bene Voi come state Scusatemi ero un po' in try yard Che mi ha preso tanto sto gioco Tiro di abilità dentro l'imbostazione audio Ah è vero bravo No certo vocale si mi dice però Premi per parlare Ok microfono aperto Ah perché non ci hai aperto Prova 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 Crasciato Incredibile Si No 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 ci sono ci sono ci sono Ah ok Vedo due mantine ma Ha 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 Si Two is meglio che uno dai Two is meglio che two ones Is meglio che von Ma guarda gamber Oh bella No mi ha crashato Nooo Si Si Ma che palle Qua abbiamo try yardato però eh Prova riardato Si si Oh No ma sta mappa qua Ormai ho capito Prova a fare le classi intanto che ci sai Che sei da solo Allora Allora Adesso 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 Faccio la classe Se si banca Ah non posso più uscire bro Mi conteggia una sconfitta Ma che cazzo No però Invitami Quando ci sei invito Hai detto vicino al lupo Che te ne f***e del KT Mi conteggia la sconfitta L'odoro Chi Beh raga Sempre piccolezze Ma non ho capito Ha detto vicino a te Che ti hai fregato il KT Poi ha detto no Mi segna la sconfitta Niente lupo Va a c***a Wasted Va bene Ma che ci frega Ma che c'è C'è un po' 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 Se è lupo E non voglio No 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 Non posso metterlo Fra perché Si sblocca al 21 Minchia minchia Partiva con pochi amici in privata Tipo 1v1 Sì sì Ci sta Ci sta Ci stanno Le private Non so se Sono attive Io immagino Quando si è skillato Vedere gente Giocare 1v1 A questo gioco Eh infatti Purtroppo non ci sta Movement Però su sto gioco Quindi quel 1v1 Il cazzo lo fa Eh serve a poco Forse con i cecchini Potrebbe essere divertendo Sai Stai sentrando Sì Fare jumpshot Io vorrei cambiare Una roba Al mio M4 Ma una FIFA Dai ma che campione di merda Eh sta mappa Vole disgraziata Mamma mia Cominciamo Guarda l'issera Guarda a chi sia Guarda a chi sia Oh ma che spiega Come fa l'M4 Su a sciogliere In questo modo Guarda là Tu 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 E a più Comunque sempre Il prezzo è esagerato Pure secondo me È esagerato il prezzo Ormai i giochi L'hanno alzati di prezzo Non mi chiede il motivo Ma hanno alzato pure Il costo dei giochi L'hanno alzato di 10 euro Tutti Tutti Oh ma sei sempre là È la seconda Oh sono morto Solo da questo No Mannaggia Ma gli dirò no Dai poco E ho livellato al massimo Lento Dominio Un cugino Giusto Un cugino Secondo me Per farle mi metti così È meglio Un bel guerra terrestre Che minchia Ti fai le doppie I nemici hanno lanciato Un Mr. Croce UAB nemico attivo Che bruttissimo Stamamp Eeeh Il nemico ha schierato Un UAB di disturbo Dai vabbè Dove stanno i nemici Guarda questo Guarda questo Già lo sapevo Dai c'è tipo Cosa di quel mondo Sì sì L'hanno lasciata Riberto e Luca La toglieranno Il 16 novembre Con l'uscita di Warzone 2 Brody Sì 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 MUTAMI CHE CAZZO VOI Hai sentito Anche te tanno fero Tipo Sì 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 MUTAMI CHE CARIO VICINO VOI NO MUTAMI 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 MISILE CRUSO STILE LANCIATO Ma questa è già iniziata Sta partita Madonna Sì sì MISILE CRUSO STILE MISILE CRUSO STILE Nooo Mi sto buttando dietro L'eschi venia Tuoi obiettivi al sicuro I nemici lanciano Un esplosivo aereo Adesso Spawno muoio Spawno muoio La mappa è una merda Proprio È che se Assurdo Assurdo Il tac fortissimo Comunque Cioè Due bot si atterra Qual è? Il tac Il tac Il nemico prende Charlie C'è a fiamma Le BRZ Stiamo prendendo bravo Chi stiamo mettendo in fuga Continuate così Dai Mi sono petta dietro I go Ci hanno lanciato un missile Cruze Mi sono petto Stiamo perdendo Charlie Ancora Charlie Charlie Per VB di disturbo Stile in volo Bella Sto partita Questa No Do Mi piaceva di più la beta È assurdo come rovinano le cose Ma porco mondo Porco Porco mondo Raga Dove vogliamo fare un po' di C&D Vi prego Che c'è C&D Ti distruggi Ah ok Sì bello Quei passi che non ti sentono Unaggia Te deve esplodere la casa No Qua Qua nel gioco Quello è lo spawn Buongiorno Quanta bella Sfandare Tazzo Come va male Forse mi è crashato Preferisco la beta Questo qua Ha crashato? Sì Preferivo la beta Al gioco Al gioco Questo qua Sincero È incredibile Raga Ogni partita Oh Un buon morì Oh no Mannaggia Sto hits nox Sto a po' fenomeno E basta E quest'arma qua È devastante Ma voglio provare Mi sono fottuto l'arma sua Quando ci sei Mantua Comunque mi sa che mi si è rotto il pad In questo precisista Oh Maronami Però puntino Non uscivo Puntino Ma cos'è paddock formula 1 Hanno fatto una mappa di formula 1 Call of duty Mi ha chiesto e cambia l'MP7 Ho preso l'M4 Da terra da una Mamma mia Quanto è bella l'M4 Un botto Sì ma poi fa un male Vabbè Mentre aspettiamo mountain Io provo A toccar le armi Deve se esplode Tocca Tocca tutto Mi dice Mi dice che ce l'ho già No scusa L'M4 Livello 20 20 raga Massimo Allora basta Sto facendo Usare Staro Infatti da cambio Anch'io provo Va Niente Si è bagato Si è bagato Mi chiesto Sto facendo un broken camera Esagerato a quello C'è uno che squadra con lui Che pinga 999 Guarda là Livello 19 Le prego guardalo Stavo pingando 999 Non c'è più Mora L'ho fatto un broken camera Con il dolphin diver Bellissimo Userò il La Io ho l'hunchman Eh si che mi veniva dire Perché ne erano due Dai non ci do uno Eccola Sto Si sblocca poi No Il tac Eh oh fammi prendere l'arma Eh da dietro le spalle Beh a morire sto morendo Ah ma l'hai messo di L'hunchman io non ce l'ho sbloccato In fucili da battaglia No vabbè mi stava prendendo a me Ah non ce l'ho sbloccato Il tac 56 Wallbang Sì Mi stava per prendere un wallbang Da dove sei morto tu E il tac 56 E la m16 ho sbloccato Ma io il tac no Provo la m16 dai Ah poi nessuno Ho visto che c'ho io Due raffiche Invitami quando ci sei ma Sì sì ci sono Moc Home ingazzo G inizia a recuperare le kill Tutututum Guarda Tutututum Tututum Parto Tututum Tututum Dove è andato? Non c'è più questo qua dietro No wey che palle raga Sempre in 300 però Let's go Basta mi sono arrabbiato 5 di fila ne ho fatta mi sa Andiamo a mettere il bagno Oh no chi è stato il cornuto Che machillato dai Ok Vai Vai Ho fatto delle classi differente Perché le mp7 qua non va bene Troppo da lontano Cioè non sono fight da close questi Quale era l'ottica che usavi Mon La prima quella che sembra da cecchino Mi hanno fatto la finale raga Ah la seconda allora Sì Mi hanno fatto la mia Appena fatto la finale raga Mi hanno fatto la cosa finale La SZ SRO7 Che cosa ha fatto come mosso Sulla mia cosa No una finale Alla stavano ascolti Della muri Si ho passato Ema prezzo Madonna C Non è che c'è tanto da Uè paia Pagliaccio Di un S Pagliaccio Pagliaccio Livio Ho sbloccato La calibrazione Eh anche io Anch'io l'ho sbloccato La migrazione Pagliaccio Pagliaccio Cos'è la calibrazione O di calibro io O di calibro guarda È la possibilità di Settarti Le armi come vuoi E mettergli più rinculo Più Mamma mia Devo mettere un rinculo Che manca ci fa un colpo E l'alarma Sta in giro ai piccioni Che è mira Ricarico Addosso a San C'enavo che molti Non portasse Spect Non c'enavo Ricevuto No io sono più stato soddisfatto Ma perché comunque Il gioco mi ha regalato 35 sapi Cinco secco Cinco rinco Ciao da apri Siccome ho avuto la genca Non capisco Figa Oh stazione Sto ricaricando Copiro Oh C'hanno sempre dove esco Incredibile Porto Un enorme Usa una carica Per foranza E' una vergoglio Chirsti Buongiorno Siamo in vantaggio Siamo in vantaggio Che vergogno Ma così non mi spiace Gioco fatta passare Un gioco E' morto Abbiamo nemici Sul campo Sti logica pesante Sti logica pesante Vabbè fa schifo Quest'arma Il launch Mannaggia Gli schizzi In Semлиc Sto Di solo Siamo persi 180 Tu lo devi spiegare Che schifo Comunque gli assalti son rotti dipende dipende raga vi volevi dire livello 13 fra lm4 portato al 12 al 12 sfida operatore sbloccato il dolfin dive è inutile da fare ma tutte le meccaniche sono inutili di questo gioco tutte quante le meccaniche raga come cazzo ve lo devo dire io ero un paia non ci credo il dolfin dive sai quando ti serve zio quando ti sparo ma che sto bordello con le macchine su avvi nemico attivo area bersaglio aggiornata raggiungete la postazione granata assortente partita l'uavvi nemico in zona ok ok ah ma ero mutato con una gelera di tarbiscotto che vado liberatela il lacman fa proprio scherzo se no tiro un cazzo nel monitor lo spacco tutto guarda ma dai che ne pregata il caffattivo che giocatore è il caffattivo Dio benedetto fanno ma sei sicuro? assatta zitto no assasso ma vaffa ma vaffa un culo pure tu qua attenzione 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 ma vaffa intimo mi chiamé ma vaffa lo trovano con una carica perforante mi drodai la stazione del centro perfaf Vou opened un po' il luttuo centimet commissioned non tiro comando lontan questo è il figlio di attività il 16 con l'uscita di warzone 2 toglieranno riporto la beta era migliore la beta piaceva di più ma hanno rovinato un quarto solito eh vabbè ma tutti fermi sto ricaricando state pronti stiamo mettendo in fuga continuate la botta 1 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 cambio caricatore questo tipo eh provate a giocare ora provate a giocare ora puoi tussare giù sto ricaricando poco risentimento ho fatto sono alle tue spalle ma che c**o ma che c**o non voglio sapere cosa ha detto o avv nemico attivo carnale alla magra c'è la gente sta sdraviata dietro le macchine ma che cazzo c'è uno nell'angolino qui a sinistra lo vedi sinistra sinistra wow eh dai talmente facile non mi piace che hanno aumentato la vita e hanno nevato lo slide cancel che potevo fare con grazie prossima postazione imminente non andrà bene ci vuole è è è è la magia è fatta di me è 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 орт si 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 i primati a camminare voi alleato online ok perché no vogliamo rendere andate a giocare attenzione in computer ottimo lavoro non ne fanno una buona no 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 che bella la tranquilla post partire dove si insultano del volo e io avevo le speranze che fosse un po' più simile a motorhome per quello del 2009 oh chi è stato perché io ho tutto bloccato questa roba oh sono le munizioni ok ok non lo so aspetta aspetta vado a questo vado a questo così non lo so quante partite avevo fatto anche perché poi avevo perso almeno più di mezz'ora perché si bancava il gioco e ci buttava pure che lasciava che è successo che mi è arrivato addosso mi ho perso un po' di tempo no ma infatti Mirko a me non dispiace a me piace a me piace il gioco a me piace così mi piace anche così ovviamente preferirei ci fossero le vecchie meccaniche ma va bene anche io per prendere alo a me 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 però qualcosa di inguardabile quest'arma veramente fa cagare c'è che tempissimo la ricarica di lo zio libius stavo salendo le scale questa giocata lupo ma perché non li muti io fai disattiva voce tutti no è quello la è quello della squadra a prestare basta che le impostazioni audio disattiva voce vocale raga volete gioinare appunto provate dai prima gente non crash dai dai gioina no vabbè questa arma davvero che c'è no raggiungere oddio qua qua ce la possiamo tryhard a che cambio caricatore come ieri ma dove ma non credi ieri ma guarda questo come salta guarda questo come salta questo vuole saldare lui saldare io io essere il giocatore breccia allora allora diciamo che il tipo di valuta rosicare visita ma se cazzo ero dietro il tempo non mi sono accorto che era già così nooo mica ci stiamo lamentando raga ci stiamo giocando nooo bella giuseppe a me piace come gioco fa un po rosicare però nuove meccaniche nuovo tutto bisognerà solo abituarci sì un pochetto mi piace mi piace l'audio i passi non si sentono molto le armi sono difficili da tenere il rinculo eccetera sono fatte bene molto più realistiche mi piace mi piace mi piace il nemico ha catturato il QG UAV è in zona il nostro UAV è in sorvolo ucciso zocco la boi no vabbè zocco la boi ma sarà possibile che il mondo si stenga nooo dai ma perchè scavalca come 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 nooo chi è stato mi sembra che sto giocando a Metal Gear al solite per come scavalca siiii 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 mi ha tirato un bestemmione della madonna il nemico può tagliarci non permettetegli lo quello che ho killato quello che ho killato ho un squadra con noi gran modile per so sto ricaricando ma non lo so dove sta siiii ZEPP si si a me da ricaricando no stavo ricaricando guarda tu no mi dissocio raga cerchiamo il prossimo QG al prossimo quartier generale confermato aggiungetelo dai guarda Ma non si vede niente Ma tu devi passare il guano U.A.V. alleato in zona Tiro una sempre Non avessi sentito la bestia in mezzo Non so se l'avete sentito il live Come il so La zona è grossa ma lui Tre ne vostri un attimo Il nemico sta catturando l'obiettivo One Mamma mia che schifo Stanno nella casetta principale A fare la cosa Non si ne cambri questi Mamma mia C'è sentito Non si è capito che Anche il caricatore Bello Angelo Come stai caro? Eh Angelo Stai bene Non ci uav Angelo tutto go Forse è il primo della partita che riceviamo Non lo so Guarda ti auguro Olympus di non Di non dover mai livellare il launchman Perché è qualcosa di Io sto provando il secondo lì quello che ti ho detto Eh non ce l'ho io Non so perché E io non ho il launchman Non mi metto Ma che cazzo? Mamma mia ma come stava camminando questo Ma come stava camminando questo? Cabola Oh 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 Mono Oh 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 questo l'elicottero l'elicottero ricarico sì ma l'effetto così per l'uso solo in mira bisogna cercare gli angoli e aspettarsi che ogni volta ma quel tipo che sta facendo due filta a posto ti guardo le spalle che rottura di palle che ha fatto ma non può esserci un nemico nel nostro suono un po fatti a capocchia attacco con mortaio stile vicino approvvigionamento stile in zona stile porti a chi è sempreların va di disturbo nemico attivo stai laggando anche te mamma no uav nemico in volo c'è la base nostra c'è ganti mio nonno guarda questo qua per la prossima posizione era qua ma figa ma cosa stanno facendo scomperato come lo cedono le bestemmie si cava così dai tempi della futchampion vabbha non so... si vedendo le munizioni stavolazzi guardate quello dove sta camminando io c'č un solo che può irpugnare qua perchè stai spiando quello sto di solito tranquillo dietro gli debba No, io devo dire a Gattu, se non le posso giocare Gattu, non ci giocare No, mia, le abbiamo presi Non abbiamo giocato per l'obiettivo, mi sa Oh, mia Madonna, madonna E' lo scar, praticamente La cantante, la cantante Per carità di Dio E' bella, è bella la cantante Esatto, era lo scar, stavo parlando la mutata Ma scusa, ma tu qual è che hai sbloccato qui? La cosa che non è P7, è bella, com'anna Il Lackman Sì, ma fa scarico, franno Non usarlo proprio Non ho capito come metterci la scuola Oh, che è successo? Scusa Eppure ieri non c'era un ca... Adesso sto provando le missioni di Gattu Con la gente che sta con i sassi in mano Perciò è girato per la mappa Oh, posso cambiare la camba sul... Eh, ieri giocavi in Nuova Zelanda Che quelli non hanno manco come funziona l'elettricità Secondo me No, no, no C'è la miseria Non c'è stato un camber Giocavano con... come giocavano con... Uuuu, granata, levati, levati Chi è ma body bloccato ma body... Uuuu... 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 Si... Non ululare, lupo Amico mi body bloccato... Mi sei rotto il controller Beh, levi che cambia un controller al giorno Ne vogliamo parlare Anche io ce l'ho rotto, purtroppo La... la corsa del... Non me la merda, Yank Come si voleva dimostrare Non è... Non è skillato per niente Andiamo prendendo vaffa Beh... Oddio... Perché lui è... Il sorbetta è in botto Quindi... Lui è in botto Non fa mai una kill più di me, Piro Che c'entrano le gare di dire? Tu... quando giochi con i follower giochi Siamo tutti attaccati In gioco sempre da solo No, non esiste... Nooo... Dopo no No, nessuna differenza Nessuna Cioè, se esci preimato E c'è questo qui Che l'ho flickato così E bene Prendiamo presto, mo Ok Dominio Se ti esce uno Camberà dietro il cesto Oh Nonaccio Perché non è proprio E' Lebron James Stiamo perdendo alfa Cioè, slide cancel L'hanno tolto anche il bagno No, non ho prendere Ma non avevo capito Ho preso alfa Non avevo capito che si... No, non ho prendere Ma no Stiamo prendendo Charlie Non è... non è per niente Ma finchè solo le m4 fa danni... Cioè, non lo so come può essere schillato Sì, le altre armi... Le altre armi sono un po' ridicoli rispetto alle mie pari Cioè, le m16 due scariche ma siete stronzi Passatemi il francesesimo No, era spai Lo scar non è male No Lo sto provando Mamma mia Sì, la... 2 m16 l'acqua Abbiamo un giro Sono ricardabile Sgenato 14 Ma fa molto piacere Guarda, sono con... proprio mamma mia E' eccezionale, eccezionale Cioè, io... io vado per aiutare il tipo che stava sparando All'elicot... All'UAV Che cazzo stava sparando e vengo ucciso Sai che mi è crashato il gioco Meno male No ma durante il game però è strano Durante il game non è normale Ma deve crashare tutto Oh c'ho Strange Devil Contro E chi è? No ma comunque Nooo c'è il contro di noi? Chi? Strange Devil? Giuro amore mio Amore mio Meno male che non l'hai preso Sì sì ma te l'ho detto Young Cioè purtroppo è fatto male Crash ogni poco Veramente è un gioco di merda C'è l'amica di non si da contro? Non sta contro di noi Incredibile Ma perché è uscita? Ci ha visto insieme e se n'è andata Wow Incredibile Stavo dicendo che mi sono dimenticato Ah è la terza volta che butto le cose C'è gli edits Questo gli edits l'ho beccato un sacco di volte Su Warzone Questo l'ho beccato bene Stiamo i soliti persone che giocavamo I soliti persone che giocavamo C'è l'ho beccato C'è l'ho beccato Capuccione Che devi fare? Devi sparare lontano con l'MP6 Si sce? Puoi sparare con l'MP6 a lontano Aiuto Piro Pirozzi Chi è Capuccione? Chi è che mi conosce? Capuccione? L'uomo botta Capuccione, Capuccione botta Oddio Io non capisco Sono appena nato Sono appena nato Un riccio appena nato È subito morto C'è una roba incredibile Mannaggia Piro Può mettere la cosa in Nuova Zelanda? Che devo mettere in Nuova Zelanda? Devo mettere la gamma a giocare in Nuova Zelanda Ok Stai la WPN su molti giocatori No Stai a cambiare l'arma in pace Stai 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 La WPN su molti giocatori Non lo so Portaci di Nuova Zelanda Che dice che ieri non c'era una gamma E c'erano i bot Ma come faccio a trovarmi uno dietro e uno avanti? Ma perché questo gioco sarà più divertente Sì sì Chi l'ha detto? Tutti quelli che non sono fanno lo slide cancel Andate a cagare No I sviluppatori l'hanno detto Durante la conferenza No perché noi abbiamo optato per fare un gioco più divertente Di quello là Che dove faccio ritrocare tutti quanti A chi gli ha fatto venissi da InMand Ma dico ma loro perché non ci giocano prima loro a sto gioco? I pro online proprio come stiamo giocando a noi nei server Voglio dei caffani Se si divertono Ma riesco a prendere un pick corretto Mannaggia Ecco qua brava 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 Complimenti dei forti Niente l'M4 comunque è la che è troppo più forte Troppo fra troppo Non ho vinto un file contro l'M4 Pura assordo guarda No Epsi Cioè ho gli shot in testa Ti va l'M4 No stavamo parlando di quando faccio schifo il gioco Quanto si manca l'ivio? La facciamo Quanto si arriva su dominio? No non è vero quanto si arriva su dominio? Agenda che sa da camera là dentro guarda C'è forse due Fino infame proprio Cioè dai mamma mia ma fermi Cioè sono tutti in head glitch raga Tutti in head glitch Ma poi anche la mobilità Anche la mobilità dell'M4 Vai affambagno Vaffambagno Di man di head glitch Dai forse Ecco qua un altro head Ti ho buttato la bomba nel culo Te l'ho buttata No No Mi dissono No Mi dissono Ah quanta pazienza ci vuole Cosa? Cosa va facendo? No un mezzo banni hop si fa ancora Ma mezzo ma è mezzo Un mezzo banni hop Un banni hop è E' quello che ti fa Un banni hop Cioè la gente usa l'M4 come se fosse una mitraglietta e pusha tutti e vince ogni fight No oggi ho sbagliato Ma ha fatto il delfino Dai pure ho fatto il delfino Il lancio del delfino Eh ma per sbaglio Non lo volevo fa' Ah come lo vedete sto gioco? Chat per piacere Esprimete la vostra giudizia Vabbè Ecco qua Mi è arrivata una deserticolata in testa Vedo bestemmia E le vedi bene No 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 Io più che a vederle ma vai a cagare Dicono a me piace Io mostro un attimo in un momento di bestemmia e nervosismo totale Quindi per i momenti di questo gioco lo vorrei bruciare Però tutto a posto Sono due lingue bellissime Due lingue che devono essere patrimonio del lunersco Youngstone Siciliano e napoletano Ah Assolutamente 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 Che romano non ti piace Ugalibro ti piace? E pigliate E' forte l'MP7 No ho smesso di sparare Raga Ma dai Oh guarda il delfino questo Aspetta aspetta perché mo ho capito come funziona Strategic Io vada un suo biscotto che è babbo C'è talmente che mi annoio Quanto c'hai l'invio? Ho smesso proprio di sparare Quello che è Manca giusto un terzo No un quarto scusa Manca un quarto Quindi è quasi finita Ok ok In solito l'MP7 Uguale Beh no cambia tutto Mario Cambia tutto Incredibile Si hanno infallato tutto quanto dentro la casetta Non potevo prendere nessuno Niente ma proprio anche la modalità mirino dell'M4 Tutto più veloce Tutto più forte Tutto È lungo di solito la mia stima Comunque con la secondaria non è male Piccolino Ti metti l'MP7 Sì Eh Ebbè Caccia la madosca Poi bene con l'M4 Non mi fate impegnare forse Giga più settaggio dell'M4 Non so che settaggio usare Non mi fate impegnare forse Perché voglio oscillare sui molti almeno Almeno su sto gioco di merda Eh sì Cheat Mannaccia morte Mannaccia Mi fate impegnare forse Non mi fate male Non abbiamo la G7 dell'M4 Ho fatto il che è il Bagnop Da guarda il Bagnop Questo è il Bagnop Non esiste il Bagnop Non esiste il Bagnop Come facevano sapere che entrivo da quella parte maledetta Dai Dai che era scarso quello Non stava nè ande glitch C'è a secco, l'ho preso io in edilic Banniamo lupo Ho belle kill con l'MP7 Merita, l'MP7 merita Sì, ma sono da vicino Eh, ho capito, un culo Che devi fare, non dici, giochi da vicino In sta mappa Solo biscotti, mi dicono dalla chat, lupo Ciao Giuseppe E Mario Sono cambiate le armi Tutti gli accessori, quindi com'è possibile Che il stato delle armi Sia uguale, scusa Sono cambiati gli accessori Cosa vuol dire Non capisco, bro Cioè, è normale che siano cambiati tutti i settaggi Non ci sono più le stesse armi Cioè Capito? Non è possibile Dario, grazie per il like Felice, grazie anche a te Cazzo, mi spara Purtroppo No, devo cambiare il set Purtroppo 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 Praticamente Comunque 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 Finita Disastro totale Quando No, è un disastro Comunque Mamma che schifo Chi è che ha fatto Mi si deve cagare in mano Proprio Ma proprio formaggio è uscito Mamma mia Niente di meno Che si fa Un stornuto Dai sciuco Quali Parindari Qual è la canna Da usare Sul M4 Perché ne so Zio Perché ne so Volete Genare Raga No Ci fa crashare Brodi Non Ti devi provare Purtroppo 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 Andate a cagare Andate a cagare Andate a cagare No Andate a cagare Andate a cagare Vai ma Ah vai Sarto io Hai filtrato Ma chi è stato io Non lo so Ma chi è stato Regalo Ho ferruto No Io ci sento Dato di Popcorn Aca Erano Popcorn Aca poccio Aca poccione Aca poccio Vieni come Vieni come Vieni come Vici Guarda L'upe Ma che fai L'upe Magari Sto Sto Provando Un settaggio Dell'M4 Delinquente Proprio Rob che Se non Killi Così E' Impossibile Che che Non Killi Perché Stai Che Mettendo Sto M4 Ti C'ho La 2080 Ti Della Rogstrick Giuseppe E Come Processore Un Ryzen 7 3700x Mi senti Lio Mi sa Che So Crash L'M4 Buone Si da lontano Fai buco Oh Mannaggia Sì Ma non ti dà Manco il tempo Di girare Buone Buone Oh Oh Eh dai Mamma mia Ben Ben Ci Aiuto C'è ne Cazzi mieco Oh Sì Ragà Alla fine Hanno messo il gioco Del 2010 Sì Abbiamo messo il comano Sì L'hanno fatto pagare i 100 euro Ma tu neanche sei giocato con il codeback Sì L'ho Rebelli 2010 La Fai pure a copia No dai ma perché devo fare il dolphin dive per fare il cazzone Ma tu che il nemico è in terza Sono sotto attacco Chi è stato da qua Ma non è mai no Ragazzi non ho fatto così Dio E da Vanno andano più buco Visto che ho fa Fai buco Mamma mia Tolgo la mira Spunta fuori Che schifo è st'arma Ma questo Questo Mamma mia Zona Guarda un'arma di schifo Ok Praticamente io c'è un personaggio che si fa amare Hai tutto meglio di Di chi? Boh non lo so Di Di Mike Tyson Mamma mia quanto smira da lontano sta cosa Ma le mitragliette che non fanno un cazzo da lontano È normale Così deve essere Ah è certo Non mi vantaggio noi Ti spara un MP7 da lontano e ti colpisce e non muori È normale Ma è certo Ti colpisce Ti da lontano il colpo diminuisce Ehi lupo ti sembra Cambio caricatore Me l'ha detto che sembri ame Deo Young Stars Non lo conosco No oddio Fravo L'ho preso con la canata Young Stars Ua via alle abitore Sto ricaricando Quello lì sta manzando sotto Ma ma sei alleato tu qua No Ti copro Dai ma ho pleccato sto Ma è del messiero Abbiamo un problema Zieti e le flashback Mi hanno paura Rimani Che cavolo Oh chi è stato Guarda dove si è messo Ma come fai schifo Il nostro UAV è in sorvolo No way Si mettono nei peggio angolini Guarda quest'altro Che fatica che sto facendo Sto game Si E fatica che sto facendo Su sto gioco Ma da là Sono nato Oggi al nemico Sono nato E' il gioco Dai sta arma Fa schifo Ragazzi Ma che cavolo giù Traditore Non vamo Non vamo Non vamo Siamo a metà missione Occhio UAV alleato online Mamma che quicca Che mi ha fatto questo Esplosivo aereo in arrivo Eh vabbè Tutti bravi con le flash Mettere soldi alleato in uso Ma questo sapevo già che stava arrivando là Ma sembra giusto Ma il tempismo Che tempismo Pazzesco Pazzesco Sto facendo delfino Dai Porco due 3 2 1 Granata Mamma mia Avrà le progetti Sto ricaricando Corri corri Viro Ecco Mofito Corri corri Viro Oh mio dio Che è quel No vabbè No vabbè Cosa ho visto Ma come facevano a sapere che ero lì Ragazzi Ragazzi Il lupo mi stava coprendo Vieni 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 Qua vieni Hanno cerchionato lui Invece che me Era un'immagine bellissima Andiamo a man Andiamo a man Che sfido Non puoi Cioè Go Cioè ti fai l'M4 Sei a posto Poi inizio a livellare l'altra armi Perché se no Perché se no Non so Non lo saprei Troppo lente Le altre Sì sì Tutte le altre armi Sono troppo lente Che ho utilizzi Passa le mitragliate Cioè io mi chiedo Ma ci giocano Prima di buttarlo Fuori Il gioco Porco 2 Cioè secondo me Ho provato Tutti l'M4 Quei coglionazzi Solo quello Eh funziona bene Cioè Parco 2 Eh vabbè Guarda che caglia Dica Vabbè 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 Lancia Una stordente Mannaggia Chiquita È morta Oh Vabbè È fatta Con quello Stord Devo ricaricare Come si fa D'avere Il risorso Che do per un amico Vabbè 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 Granata Vabbè 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 Che bello Non ci sono più Tutti quei salterini Kanguri Non ci credo Non ci fomba Voglio Sto Sto Ricaricando Ma dov'è La gente Abbiamo perso Il comando C'è la gente Niente Niente Deo Perché mi scava Il calacchia Mi scava Il calacchia Tutto Sto giro Una partita così Così Per il Lo zulipish Mamma Ma ora Metto col cecchino Puri Vabbè 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 Francesco Ci sta Come gioco Solo che Devono Farsi Tanti Tanti Aggiornamenti Bilanciare Armi Ficare Il crash Del gioco Però Di base Bello Infatti Però Devono Lavorarci Un po' Però Mi piace Mi piace Meccaniche Nuove Nuovo Gioco Un po' più generalizzato Per far giocare tutti secondo me Ah per uscire Nella kill cam Ecco qua Ma chi te se imbuppa Ma guardate che stronzo Si si French si si Vediamo questo che c'aveva Un botto un botto Ma perché bisogna portarle a livello massimo E poi bilanciarle te Dopo secondo me diventano Utilizzabili tutti Il problema è livellarle Agonia No Lascia stare Abbiamo già provato Devo sistemare questo robot Ma che si è senza patch si sistema Ma che si è senza patch si sistema Ma che sta sconando questo Ma che non lo sa Abbiamo trajardato dai dai abbiamo trajardato Dai un video vi provate Dove è? Dove è? Aria per faglio localizzata Catturata la postazione E' la portazione Ecco Pensa che io l'ho capito in tre ore Qui in due minuti hai caduto Oh c'è una carica per foranza Con te Con le mani Volete entrare? Non lo sistemare Eh si Chiamo a te chi dice Raga entrate? No ma lo sistemiamo No ma lo sistemiamo No ma lo sistemiamo Siamo in vantaggio Ricarico Il mio caricatore No ma lo sistemarlo lupo dai Sotto via La killcam comunque è La killcam dei nemici è a 30 fps Sto cercando di entrare dentro postazione ma c'è sempre nell'angolino si comunque la l'altro salto non è male la più bella sparando nelle ginocchia con una carica perfonante no no ma io non ho mai sentito il fatto che non può fare a caso la gente che è assurdo fare a caso la gente è un po' ricco la maglia del napoli mi ha mandato un messaggio no non lo so si sono moltissimo dopo questo spengo un po' mi sono scocciato vediamo dopo pranzo siamo da tre ore infatti quasi quasi mi andrei riposo a furio un po' 10-5-28 tu sei già a livello 30 pensa io sono a 15 vabbè tu sei stato già gettoni eh sì sì ok c'è chi no sopra io sono sulla postation io ho pusho un attimo dentro che mi scherito perché non mi scherito perché non mi scherito il disco tu hai fatto il disco non trovo un carro il nemico ha schierato un drone nooo non l'ho visto cioè il drone bomba li puoi sparare e poi ti uccide un po' bella non trova mai finita eh no siamo a baggazze volgate se è uscito a baggazze è entrato a baggazze si è baggato tutto basta spengo ciao addio non c'è una carica per faranto spengo si è scocciato ricarico ci vediamo dopo piro si si mi sono scocciato raga bella a tutti ciao ciao bello vabbè prova entrare da voi finiamo si c'è posto allora allora sergio devi scusate no vedi un attimo delle impostazioni audio comunque devi sapere che più di tre persone non si può giocare insieme perché se no crash al gioco eeeh ma c'è un forturatore siamo in quattro e siamo in quattro e siamo in quattro e siamo in quattro e siamo in quattro perché se no crash al gioco incredibile vabbè ci siete eh prossima postazione imminente ehm mi seguisci fuori ok ti defunto eh sì non vado a giocare 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 conquistate la postazione ti copro vado a giocare e vabbè stanno giocando tutti ci sta meglio nemici molti buona predatore lo vorrei beccare nemico devo riguardare qualcosina nella grafica perché vedo un po non vedo pulito pulito ok aspetta vai approfitto quando ci siete trovo ricerca postazione preparatevi postazione compromessa liberatela o avvi nemico attivo top cambio caricatore aria bersaglio aggiornata c'è chino fermo rincon tutti so toxic very interactive ricarico uav alleato in zona grande di aria io non capisco perché non fa lo scatto attacco ma hai scatto attacco automatico no ma eh l'ho messo ma non me lo fa lo scatto o meno eh non me lo fa allora non me lo scatto adesso è reggioso faccio baggare di nuovo prova a entrare su guerra terrestre trovo con una carica perforante bello se vedi il cecchino mamma mia sono rotto frate devastante forcuno non riesco neanche a muovermi questo ha fatto doppia di collateralt davvero poche parole con i cecchini per adesso no ma sono rotto non so se hai visto Kai mentre lo usava ma one shot one kill ma quanti siamo lo userò anch'io però volevo pure livellare le altre robe ma sia così forte ma che roba e poi sembra facilissimo fare qui sembra molto più facile rispetto a tutti gli altri prossima postazione in minera nuovo nuovo codino vabbè vabbè no ma il cecchino è insano fra per fare un quick per fare un quick assurdo regalo ma questi quanto cazzo parlano tra di loro cioè è impossibile che siano così coordinati non ancora, voglio livellare però dopo potrei provare, sì, perché no? mamma mia bisogna stare per il fronteggio per un meno push un più... ho avuto una carica perforante personale nemico alla postazione il timing della mia ricarica è incredibile dai c'è il kino top, occhio, Livio, allì a sinistra, occhio, ai net glitch ho visto, ho visto dopo con una carica perforante un altro salito c'è uno davanti e uno dietro non si scopri l'area bersaglio aggiornata in cima UAV nemico in zona restano 10 secondi che è che becca il cecchino Livio lancio una termite l'SPA sì 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 ma non ha senso non nel multi così non ti piace un tonino le steam non le hanno bloccate per quello lo vorrei io appena le sblocco ovviamente le metto ah beh, sì per fortuna vengono ecco vengono c'è ventiquattro volte son morto che disagio 31 avrà eh facciamo una classe col cecchino per prepararla rivelo 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 ciocchino cecchino mi scusa si noo te lo giuro cecchino bloccati io ho l'MCPR sbloccato ma io scusa ma ah vai in fossili tattici in fossili tattici fra lspr e riveliamo sta merda stanno non male non male il tac un po' mi gaso ehi stevon basta ti prego basta basta non male cosa ti fa per crescita no no ma il bambino mi piace ah si 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 mi ha bloccato il giro andiamo in passaggio oh oddio arita perchè non mi spara ah perchè mentre salto non posso sparare giustamente raga alcune meccaniche sai cosa sto vedendo bro eeeh proprio la scivolata sai che uscire negli angoli della scivolata fa un botto no ma proprio tanto ma come se non puoi sparare che senso ha uscire non lo so non lo so sono uscito da un bel po' di angoli e la gente che ho beccato lì mi smirava praticamente cioè mirava in alto e non in basso non lo so il spr comunque non ha motivo di esistere è bastante ah pensavo per di base facessi super schifo non sa no anche base a parer che sembra un fuci dapop non c'è più lo spec ansel no no mai e c'è Kino eliminato secondo me però ci sono delle impostazioni qualcosa da cambiare perché è impossibile che non si possano sfruttare tutte queste meccaniche è proprio impossibile abbiamo perso il comando ci siamo portati in testa ovvio ovvio nel momento in cui stacco la la granata mi escono due dove mi laserano non si può essere su questo tetto si può ma dalla scala arriva il nostro attacco con mortaio richiedo ricognizione aerea ricevuto UAV di nuovo per l'area missione disponibile cruise alleato in arrivo il nostro UAV è in volo con questo bombardamento non si capisce niente continuate a combattere UAV alleato in zona a certe volte invece non fa danno cioè a me è sciotta e agli altri eh sì cuso l'ipcari e due a quest'anno UAV nemico in volo i nemici hanno lanciato un missile cruise UAV nemico in zona fantasma attivato m4 aveva per forza mmmm migrator devi prenderlo la parte busto alto cioè appena appena prendi tipo qua in basso anche la pancia e anche più più lontano è meno shot provo con una carica perforante no questi 10 hanno avuto problemi eh sì ma è appena uscito dai dai una settimana appena uscito ci sta che ci siano dei problemi dai ma in realtà no in realtà no però facciamo finta che sia stato complicato svilupparlo quindi aspettano i feedback della community se sperano il 16 novembre oi oi stanno cominciando a giocare fermi hanno capito come carterarci secondo me perché hanno preso sì ma no così no però UAV nemico attivo UAV fine autonomia sto ammazzando qui nessuno e lo dico ben piano io ho iniziato benissimo adesso non sto vicino poi non è shotta più sta roba vabbè UAV alleato in zona no vabbè guarda questo tipi trippi grazie per le 100 stellone bello è diventato un po' più vero sì è vero sì ti dà ragione anche io non ne sto più facendo dal 33 le kill uso una carica perforante no way bro schifo schifo sto perdita è perché devo livellare sto cazzarola di spr misaggio il samador non vuol più continuare a livellare quell'arma lì ma fa schifo stare a sto assalto cos'è stato così perlomeno ma lui può sta giocare no che viene fatto il gran sasso è sempre con te in che senso hippie l'individuo tra nemici usando granate localizzanti quel cazzo ovviamente 46 e riprovo l'assalto dai va livelliamo gli assalti prima russell agenziana ciao salvo figa come sta è bello mio grazie per like tato allora rega l'avete comprato il gioco lo state trovando i barrieri lo state vedendo come vi senta a me in tact non mi spiace troppo non mi spiace troppo non mi spiace troppo non mi spiace troppo devo andare a farmi gherzi ti li assalto max ma non mi spiace troppo qui però forse ci sta la mitraglierta non mi spiace troppo non mi spiace troppo che push che aggressivissimo lo sapevo non sono su quattro di attraverso che si è attraverso andate a catturarlo si dovevo piccare e freddare andiamo catturando l'obiettivo dai lag ma mi lagga però mi lagga sempre che freddare che freddare che freddare quando guarda il giocatore guardi ti guardo le spalle è come se guardassi la che lui c'ha una chiama una gopro su un caschetto una gopro su un caschetto a me no a me non lo fa a a me piace questi nuovo know raga che cazzo di mitraglierta è questa aspetta il corriere mi ha detto alle figa dai 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 non si lo spara eh lo spara sta roba non fa tanto devo capire perchè non faccio no fire way guardia generale online prendete l'obiettivo stiamo catturando il QG esplosivo aereo in avvicinazione uav nemico in zona bravo la bodycat ma mi lasciate fightare uav nemico attivo so toxic guarda questo guarda mi dovete imparizzare mi dovete imparizzare questo è un po' di fangolo per questo cosa è un po' di fangolo vabbè spara ma sta avvicinando su U avvi nemico, insomma partecipa, partecipa c'è un po' c'è un po' partecipa partecipa vai 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 c'è un po' c'è un po' c'era no no c'è ancora un po' abbiamo per il controllo del QG riprova 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 hanno lanciato un missile cruz nooo aspetta, aspetta QG forse no no preparatevi fermi, sono in stun-up però sono tutti fermi negli angoli o sei, o già l'imprevedibile toccate via qualcuno ehm fanno uno al volo l'ultimo e poi ti invitiamo, va bene no 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 noi i passaggi qui con la m4 ti fai un sacco di kill ma non ha senso poi livellare solo quella no sto provando l'attacco guarda che la mia ragione non è male niente se ne tra gli arto da lontano mi si è frizzato la si ti vedo fermo frizzato oh my god bro niente ti vedo frizzato si si ah mi si è chiuso il gioco ora è inutile provo a far scansione ripara ho paura che mi faccia disinstallare il gioco poi problemi che potreste sperimentare su mv2 crash su pc texture buggata latenza alta del server bene eccomi sono andato in gugina quali erano i vantaggi per la volt edition le skin le skin sulle armi quella rossa dell m4 è una skin si ma su quasi tutte le armi perché nel caso non doveste averla andare su impostazioni user account altra ripristino licenze ma state ancora giocando quasi finito l'head glitch col riparo mobile è imbarazzante ha buggato l'ho colpito in testa e non è morto è possibile che non riesco a infizzarmi nella partita di qualcuno da da rompergli le scatole si si dicono che è mega buggato giocare con gli amici raga no vabbè stanno a fare la privata kong monti brello stanno in privata zi ma no ma che privata io devo livellare qua dopo tutte le private è privata wow ma talivio quando vai a mangiare eh ci stavo pensando sai mi sa a breve perché sto morendo di fame ma è tutto bannato zi perché ancora uno due mangio poi in oretta mi ricollego si può pingare si può pingare anche io chi uguale mi sa qua bisogna sfruttare vedi che non mi fa lo scatotattico automatico fantastico i ragazzi sono la privata contro brello e gli altri kong io penso sia inutile quale va la come cazzo si chiama quella che sembra un assalto ma vi invito ma vi invito vai anch'io tanto quasi finita dai dai invito invito stavo in privata da loro sono uscito dai fatica fatica avevano fatte regole della cdl della kwd ci sono ok incredibile ecco perché stavano giocando infatti teniamo le cose bannate non capivo il mio amico americano è già il 36 che bestia schifosa nerd allora fammi vedere un attimo chi è il allora il cinder se è stato così però non sono convintissimo ce stanno ce l'ho i cecchini sbloccati solo l'mcpr è possibile l'spx tattico di michael nel tattico c'ho comunque l'spr o l'ebr che è che fa più danno l'spr buono bello cecchino bello ghiotto ghiotto che è che manca l'ivius arrivo arrivo corri corri forest uaviti allora cecchino e pompa eh non so qual è il migliore però il bryson o l'expedite no vabbè metto una mitraglietta dai senza che fare cagate eeeh c'è la mia granata si perchè ma è un'altra partita l'ivius no no è sempre la stessa e perchè io sono del party di chi scusa mia di man di chi manteng e quindi tu sei da solo però lui è crashato era crashato che è un'altra partita con me dai esci esci quanto manca? 20 secondi raga va bene va bene perché se no mi fai andare di là e mi fai spuzzuliare la pasta la pasta al suco bro forse ho sbloccato qualche personaggio nuovo si ho sbloccato piro in bedwink beh hai capito che dall'altra parte a parte quel personaggio io non ho capito quando finisce sta partita però hai letto 20 secondi eh eh non è il quartiere generale invitati che è Rhodes invitati di nuovo hanno rimesso Rhodes come personaggio si eh vedi si vedi nell'altra squadra c'è Rhodes l'ho appena sbloccata l'orango dango bang compila per 7 con il resto di Livius imbarazzante imbarazzante simitragliattivi muoviti muoviti via 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 il larghi muoviti cori 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 è uno schifo tanto ma cambiare subito cambia tutto 44 azzi un fila per 18 con il resto di 15 c'è uno stop di 90 va là sono uscite le impostazioni zio e come va montata la grafica su questo god no vabbè dove no 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 è crashato raga ah madonna 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 si che è schifo di gioco allora il problema non è che è start in 3 e crash no 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 proprio ci sono i bug giocando con gli amici proprio generico potremmo essere anche in 18 cioè o in 2 crasherebbe comunque sì sì proprio giocare con ieri ma in 2 non abbiamo mai non abbiamo avuto problemi che era Giovanni no però crashavo mentre giocavo già due volte eh ma non penso sia il party però il crash mentre giochi cioè il bug è quando sei insieme e starti la partita che crashi ma prima eravamo 3 non crashavamo oggi crashi in 3 eh boys che vi devo dire allora è avviato eh entro è la Giovanni stiamo provando il nuovo Call of Duty ma partiamo malissimo oggi siamo crashati 80 volte purtroppo giocando con gli amici crasha c'è un bug cioè che poi hanno avuto un bel po' di ore perché la gente già ci giocava ieri e l'avranno riscontrato per forza cioè come è possibile che non abbiano ancora agito eh perché ti meravigli scusa eh meravigli che non hanno agito dai figa fanghi ti funca fanghi ti fanca vediamo se vi vedo minghia rega troppe troppe vai partecipa eccoci qua vai chi sarà l'altro adesso qui t'ha? chi è che fa casino zi nessuno eh no ti sei smutato perché sei smutato sul gioco disconnetti vai così vai 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 chi è l'host? stiamo già andando zio ah va bene a posto a posto c'è un po' di caffeina nel tuo corpo bro vai la brocca la devo prendere no non ce l'ho pronta la brocca non l'ho presa oggi guarda guarda c'ho la birra però ah eh dai può un po' alleviare questa sofferenza no fra che schifo è ricrasciato non ha senso zio davvero? oh io allora ne faccio una non ne vado a mangiare boys perché non vabbè dai continuiamo così assurdo guarda anche lasciola di nuovo buongiorno è lupo è lupo è lupo è un pc di lupo buo schifo bla buttalo via compro un altro mamma mia lo bacchiotto ergognatevi questi devono andare a giocare a bocce questi altro che fare gli sviluppatori devono andare a giocare a bocce dai ultima pausa pranzo poi sì io mezz'oretta ritorno ritorno ok me il corriere si è perso la maglia del napoli ho scritto lupo bianco zappo che ho finito però dici Livio che non sarebbe meglio tipo fare un bel guerra terrestre che ti fai un sacco di chili un sacco di punti torna su roberto possiamo provare in realtà possiamo provare dobbiamo rivelarle armi cazzo regal 16 novembre è vicino ah sì beh dai in una mattinata siamo già al 20 il passa al massimo al 55 tu io sto al 16 ma io non ho messo i gettoni però ancora ah se no ti gettonavo tutto ti gettonavo ti gettonavi allora io voglio andare dentro e l'asilo qua c'è Kino is the way dentro l'asilo grande Napoli vediamo se mi fa partecipare c'è un posto no sempre domini prendiamo i carni penso di sì carai io voglio fare una partita contro cazzo che c'è eccetera eccetera vai andiamo lì via sto dietro andrà a rompere le palle a qualcuno questo spot è bellissimo all'inizio il D90 già mi piace di più sincero il D90 già mi piace di più di quella merda di Hurricane ecco i cecchini ecco ve lo fermo nell'angolo partita iniziata sono andata a rompere il cazzo a una persona bravo al sicuro no sono pure risparrano me stiamo in vantaggio speravo di stare contro non è saltata più la partita guarda che merda che sei sono fermi negli angoli è infattibile ho dietro i tavoli fatticosissimo i suoi partiti giocavano a sui corridori prigionieri ma non si attenderà Filippo grazie per il follow bello benvenuto no vabbè ma stampi per me niente non cioè secondo me per renderlo più divertente è un bel radar sempre attivo vedo termine la gente se gioca no bello quello sarebbe bello trovo con una carica perforante niente non c'è giusto il nemico controlla due obiettivi attaccateli oh no voi chi è è tutto bugato non mi fa vedere manco con chi sto io nel party assurdo insomma niente devo giocare da solo Siamo sull'obiettivo bravo Guarda, guarda, schiaccio gli amici, non mi fa vedere gli amici Sono riuscito a fare UAV, adesso dovrebbe essere un discego Mi si guitta dal gruppo Tutto bugato in sto gioco, si Abbandona il gruppo Mi faccio un mosh Siamo sull'obiettivo bravo Lo sapevo Sapevo che fanno nessuno P90 mi piace per sta mappa Ma cosa? Non faceva danno a me il P90 Eh, ma in sta mappa che tu fai close fa i buchi Ti faccio io il close, te lo faccio Allora, che volevo dire, non mi ricordo Allora, vediamo contro chi sono No way bro No way bro Allora, sono contro Arachne 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 decide Contanto che il gioco costa almeno 80 euro Fa abbastanza incazzare Eh, guarda, non è parte 80 se sei stato umile 80 se sei umile, io l'ho pagato 100 Eh, pure io Cioè, quindi Sei umile lì Il nemico cattura Charlie Ma fa mucca, ma vada giù questo giocanile Ti copro Il nemico ha preso Charlie Usa una carica perforante Facciamo guarda quello Oh, hanno cambiato la terza persona Sì? Autorizzare riniti Sì, prima Ti rinventava in prima Quando mi davi, adesso no È solo terza persona Ah, beh, dai, si fa Ricarico Eh, però a me non dispiaceva No, nienta ma C'è mai dispiace Ricarico Eh, no, adesso sparicero la terza persona Entra in prima No, non è freddo No, ma questi si vanno No, non si vanno Alleato in zona Il nemico prende No, è c'è Vabbè, non si vanno Un assordo U.A.V. alleato in zona No, no, c'è chi Stiamo prendendo Alpha C'è chi Ah, c'è un folgoratore Sì, in attesa C'è camera di nero Eh, sì, perché non puoi stare dietro Perché tutta la terza persona Riesce a vedere dentro, capito Fantastico, regà Penso che rimarrò a giocare tu Solo con questa modalità A me diverte un sacco Alla beta S'ho giocato un bot in terza È l'unica soluzione Siamo solo via Ah, French A me piaceva anche il movement Vecchio Controlliamo Charlie Il nemico guadagna terreno Non permetteteglielo Guarda qui Come non detto Mi abituerò anche qua Sei sicuro? Sì E se poi te ne venti Guarda qui No, figati Il code 4 Guarda il rappeggio Non lo ricordo Perché io ero sulla pre-trade Che cos'è che è free to play? Sì, Warzone 2 Battle Royale Cambio caricatore Sì, Warzone 2 Tue obiettivi catturati GG No way No way bro No No way Oro Quanto cazzo Quanto cazzo Quanto cazzo Quanto cazzo Granata flashback La flashback Per gli stun E chi cacchio Chi viene up Chi ne metta Sono alleato in avvicinamento Sono combinato Quagliato Sono dimenticato che non si può sparare Il nostro UAV è in sorbolo Aia Come hai già visto alcuni Eh lo so Madonna L'SPR No L'SPR In arrivo Bua via L'uomo con una carica perforante Dai I cucini tattici sono rotti Sì sì Sono rottissimi bra Stiamo perdendo Charlie L'abbiamo visto prima No Vai perché non mi ha cambiato l'arma Charlie Però vanno un attimo livellati Siamo sull'obiettivo Alpha Ti copro il cambio caricatore Alpha sicuro No Ma dai Come poi camperan detta persona Il nostro UAV di dissono è attivo Sono sotto attacco Sotto nemico No sense Davvero no sense Oh mio dio cosa ho visto Questo dal flipper No vabbè dai UAV alleato Controlliamo due obiettivi Ma fra l'MP7 Dessa persona scioglie Una cosa illegale UAV di disturbo alleato attivo UAV nemico attivo Mamma mia Eh dai Mi ha fatto lasciare davanti al nemico Io non ho parole che l'M4 è più forte della mitraherta da vicino Cioè non Che senso allora giocare la mitrahertura Giochiamo tutti con l'M4 W'è un donno? Che è un donno? il nemico prende alfa nooo mannaggitonni stiamo prendendo charlie il nemico cattura bravo il nostro avv è in sorvolo usa una carica perforante io non vedo non troppo quando lo troverò morirò stiamo prendendo bravo i'm pretty sure fatti puoli da solo per prima esatto guarda faccio prima davvero obiettivo bravo al sicuro ma vai a cagare vai che è schifo cambio caricatore e vabbè c'è vabbè vai vai allaghi allaghi oh no non ha giù di un bec niente missione compiuta 20 kg ho fatto ma come ho fatto a fare 20 kg raga what giù appiccita ragazzi guardate le m16 per esempio com'è devi sforzarti a mettere tutti i colpi dentro con le m4 gli spari 3 3 3 colpi te le butta dentro ttk cocciglio porco eh va poi ah buona mannaggia la nonna boh andiamo a rifucillarci io vado a mangiare io voglio fare un'altra in realtà facciamo un'altra marco come un'altra? ma quasi gridiamo? la ultimissima ma andiamo a mangiare vabbè io che da un piace oggi rega di giocare get out bellissima ce la faccio voglio io voglio farne una buona perchè sto bestemmiando voglio continuare a bestemmiare eh si è una droga io non so neanche se staccare la live raga da quanto voglio giocarci no la devo staccare fai il grande fratella taratara taratata taratata tarata ci porto la webcam in cucina lupo entri o stappiamo noi arrivo arrivo perché qua abbiamo maia di nerdara andiamo andiamo non voglio di nerdare e di mangiare ma mangi davanti all'appicino rombru biscotto No, è chi è che cucina, eh, devo cucinarmi io Se me lo mandi qua, lo accetto più che volentieri Se poi può passare anche da me che così faccio a nerdare tutti tranquillamente Dopo io ho la roba alla mangiare, però vabbè Io devo farmi la pasta, rega, quindi minimo 20 minuti partono, figa Io mi faccio le salsiccine con l'uovo C'hai visto il salsiccine, nel pane, via Le salsicce Salsiccine, salsiccine Anche pomodoro No, non sapete, l'accende Guarda, quanto cazzo manca finita la partita La devo quittà? Beh, quitta, quitta, muoviti, muoviti lupo Ma ve lo giuro, manca poco, manca Finita, finita No, veramente, sono a 235 punti C'è, bastano pochissimi punti Poi, che fu così, che limite Tipo, siamo a 240 punti A 250 finisci, oh Stiamo conquistando Vai, vai, vai Vai, entra, vai, entra Start, start, mountain Vado, eh Mannaggia discord Più di Livio e cecchino l'hai già abbandonato Non ci credo Abbiamo perso la base Perché sono cretini Aspetta, mo la conquistiamo Dunque, Angelo non hai ancora Angelo, ci sei ancora in chat? Angelo! Mannaggia Se ci sei, ti stavo per regalare una sabba Batti, batti due colpi, se ci sei Batti due colpi Boom Boom Boom, boom, granata, boom Ti capisci niente E che l'ha? Che l'ha, la scoloteca qua Guarda come sei messo a camera questo, guarda Angelo Ma ve lo vado Non riesco a prendere quello che devo prendere Perché, eh, guarda, guarda Mannaggia Raga, raga E' imbarazzante E' imbarazzante la situazione Te lo giuro su Dio Ma mancano quattro punti Non riescono a prendere quattro punti Eh no, su Dio no, eh Su Vanessa, allora Oh, vai Vanessa Allora, quanto manca? Fra, quattro punti Se si credite, si muovono a conquistare Tre punti, due punti Ho già capito come andrà a finire, Livio Che la rimontano È finita, è finita, è finita Ma che rimonta? Tra quattro punti mancavano Si scemi In me non riuscivano a far salire appigliato a bandiere Tra l'altro io leggo Lupo Bianco TV Input Gioca con tastiera e mouse Ah Ah Non lo sapevo, Lupo Hai cambiato oggi? Hai cambiato? Ho cambiato Non lo sapevo neanche io di aver cambiato Ti giuro Lo vedo scritto Lupo Bianco TV Gioca con tastiera e mouse Ok Wow Bello Vediamo Mantine Giola con un controller Ah Ah Io quando pareggio Hai visto? Non sapevo che il mio pad fosse diventato un mouse tastiera Però tutto regolare Due in una Oh il primo che crasha Ce ne vaffanculo Ve lo dico S'attacca Ciao Lupo Vai 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 Ciao ragazzi Ciao Vabbè La racciule Dai muovetevi Sta andando Sta andando Muovetevi 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 Ci siamo quasi Ok No Di mettere No Lss No No Ma ci sono quattro mappe in sto gioco c'è da stamattina che giochiamo Faccio vedere Sempre le stesse Vabbia No porco no Vabbè Vabbè Mi sono rotto il cazzo Guarda Mi sono rotto il cazzo E bassi No Mi sono rotto il cazzo Ti va a cagà Ah Sei crashato Sì Sono ricrasciato Dai Lupo Ci mettiamo al primo giro Eh Ci mettiamo al prossimo giro Non c'è niente da rire Ciao bro Io sto con te Lupo Non c'è niente Io besternerei fortissimi Sì Livelli Extreme bro Vabbè Eh niente Bella ragazzuoli Bella Bello pacchetto No però così no Però No così no Così 0-2 lì Vabbè ma quanto stai Mamma mia Adesso basta Adesso campero Proprio come un drago No no Io non posso Cioè Non c'è niente 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 Ti prova Ho girato un UAV di disturbo Cioè più che altro Poi campero Magari Sofferto In 10 secondi Ho detto no Mi rompo le palle Appena il nuovo Oh morto Sì sì No way Cioè non ho fatto una kill ancora Ho girato tutta la mappa Ho girato Ho girato Ho girato Ho girato Ho girato Ho girato Ricarico Sono con te Ma dove sono questi nemici Scusami Oh mi beccano solo da dietro Gesù Cristo Siamo in vantaggio noi Pazienza ci vuole Mamma mia Se non smadonno Fra Solo da dietro Veramente Sono tutti nervi C'è poco da fare La mitraglietta Non si può usare Una kill Sì Poi morti tutti e due Ma io non capisco Però io faccio fatti Una Andare a mangiare Pulità nemiche in vista Ti copro Uaviti disturbo ostile In volo Uaviti disturbo nemico Attivo In arrivo Alcoratore lanciato Oh Dai ma stanno piantati Però fra questi Provo con una carica Perforante Devo ricaricare Spostamento State pronti Missile cruise In avvicinamento A me piace A me piace Mi sembra Facciamo che Camperozzi Faccio vatico Supportarli Quello Quello Siamo Guarda Quello Siamo Stazione Compromessa Liberatela Nemici nel perimetro Semtex Quello che non ci vede su uccide sono quelli di AFK Sono lì da dietro Ma semmeno io non capisco gli smontri Io ero lì da te C'ho andato dall'altra parte della mappa per usciare E mi ha ucciso uno dal giro Ma perché li ci flankano? Continuano a fare il giro Si si è un giro giro torno Sto ricaricando Ieri di turbos Inizia la postazione Postazione espostata Non abbiamo avv noi neanche con Si si se in solo avv faremo molta fatica Sappilo Mi manca 2 per 2 avv Sto ricaricando però ce l'hanno sicuro è fisso, mi sa si si continuano a lanciare OB e ci stanno riusciti a lanciare per il proprio popolo di sta cosa non più cercatori nemici nel perimetro campagna assurro, aree avversario aggiornata rassungete la postazione i nemici lanciano un esclusivo aereo provo con una carica perforante nessun passo no, sentite nessun passo sta dietro vai affanculo vai ricerca della prossima postazione si sta ammazzando tutti con la pistola io faccio fatica ammazzarli con l'arbre si sta ammazzando tutti con la pistola vai ci sta ammazzando guarda loro guarda loro mi senti? imbarazzante imbarazzante mi sa che mi crasha fra ancora eh? ah si sta crashato tipo fuoco automatico ma cazzo sta succedendo niente la gente è crasha sta crasha sono crashati tutti ah è crashato tutti sono crashati tutti 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 anche tutti i nemici sono rimasto io e alcuni amici dai Livio io stacco mezz'oretta più o meno e mi reggancio per le due tipo va bene dai a dopo ciao bella bella niente raga io stacco ci becchiamo tra mezz'oretta un'oretta massimo grazie per la compagnia ci vediamo dopo buon pranzetto se non avete ancora mangiato come il nerd sottoscritto ciao belli miei bacione grazie